Cominciate a farmi un po' paura e devo dire, comunque grazie. Allora, allora io come sapete in queste tre lezioni proverò a raccontare i momenti cruciali della prima guerra mondiale dell'Italia. Il festival quest'anno è dedicato alla comunità e non c'è dubbio che la prima guerra mondiale è un momento in cui l'Italia ha fatto un grosso passo avanti verso l'essere una comunità nazionale coesa. È una delle tappe, 50 anni dopo l'unificazione, che hanno spinto l'Italia verso essere più di prima una comunità. Però attenzione, non è una cosa necessariamente solo positiva. La comunità non è soltanto il luogo della coesistenza, della solidarietà. La comunità, tanto per cominciare, in storia, quasi sempre, quando è forte, coesa, non desidera niente di più che sottomettere le comunità vicine ed eventualmente annientarle. E questo si vede molto bene nel programma con cui l'Italia è entrata in guerra e nel modo in cui ha poi gestito la vittoria. E poi c'è anche un'altra cosa, che più la comunità è forte, coesa, sente di essere una comunità e qualcuno la vuole guidare in una certa direzione e incontra resistenza. E allora quelli che non sono d'accordo sono dei traditori, sono dei traditori della comunità nazionale, al soldo dello straniero. E anche questo si è visto bene nell'Italia di quel 1915, nell'Italia che proverò a raccontarvi in questa prima serata, l'Italia che entra in guerra. Allora, come sapete, l'Italia entra nella prima guerra mondiale quando la guerra sta già durando da quasi un anno. Quella che i nostri vecchi chiamavano la guerra 15-18 per tutto il resto del mondo è la guerra 14-18. Noi siamo entrati in guerra il 24 maggio 1915. Era passato molto tempo da quel 28 giugno 1914, quando l'attentato di Sarajevo dà il via a una dinamica spaventosa che nel giro di un mese precipita tutto il mondo nella guerra. Un attentato è un contesto, se volete, molto familiare dal nostro punto di vista di oggi. Quella è una guerra scatenata per via di un impressionante atto di terrorismo internazionale. Situazione che possiamo capire benissimo. È stato assassinato a Sarajevo, in Bosnia, l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austriaco. La Bosnia è stata occupata dall'Austria da pochi anni, unilateralmente, scontentando mezzo mondo, fra l'altro scontentando la Serbia, che è il paese confinante. Un gruppetto di terroristi di nazionalità serba a Sarajevo, quel giorno, ammazza a pistolettate l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia. In Austria la reazione ovviamente è particolarmente intensa. Gli hanno ammazzato l'erede al trono. L'imperatore Francesco Giuseppe è vecchissimo, ormai è chiaro che morirà molto presto. Quello era l'erede, da anni si preparava a prendere il potere, adesso è morto, al suo posto c'è un giovanotto che non ha arte né parte, sarà poi l'imperatore Carlo. È uno shock enorme. L'Austria è convinta di sapere che questi terroristi serbi hanno delle complicità in Serbia, nello Stato, nella politica, i militari, i servizi segreti serbi. E l'Austria decide che è venuto il momento di farla finita con la Serbia che da troppo tempo ostacola l'espansione austriaca nei Balcani. Non l'ho detto, vi racconto com'è che tutte le altre potenze sono entrate in guerra prima di raccontarvi che l'Italia invece in quel momento è rimasta fuori. La guerra comincia con l'Austria che manda alla Serbia un ultimatum che equivale alla guerra, perché la Serbia dovrebbe sottomettersi a un'inchiesta condotta dagli austriaci con pieni poteri sul suo territorio, nessuno Stato potrebbe accettarlo. Quindi è sicuro che ci sarà la guerra. L'Austria scommette che siccome la Serbia evidentemente è uno Stato canaglia, per usare il nostro linguaggio di oggi, che sostiene i terroristi e allora nessuno avrà niente a ridire se l'Austria punisce la Serbia. La Serbia però ha un grande fratello, la Russia dello zar Nicola. Grande potenza, slava come la Serbia, ortodossa come la Serbia e la Russia entra in guerra per difendere la Serbia dichiarando guerra all'Austria. Ma anche l'Austria ha un grande fratello, la Germania, la Germania del Kaiser Guglielmo, il secondo Reich. Lo zar di Russia Nicola spera che tutto sommato la Germania resti fuori da questa guerra. Innanzitutto perché lo zar Nicola e il Kaiser Guglielmo sono cugini primi, giocavano insieme da bambini, si chiamano rispettivamente Niki e Willy e lo zar Niki tenta disperatamente di convincere suo cugino Willy a non entrare in guerra contro di lui. Tra il luglio e l'agosto del 1914 c'è un frenetico scambio di telegrammi fra lo zar che si firma Niki e il Kaiser che si firma Willy, telegrammi in inglese naturalmente, in cui lo zar Niki dice a Willy ma tu vedi io devo entrare in guerra contro l'Austria per difendere questo piccolo paese, la Serbia, aggredito ingiustamente ma tu rimani fuori vero? E Willy gli risponde ma no io sono alleato con l'Austria guarda che se tu le dichiari guerra io sarò costretto a entrare. Vanno avanti così per qualche giorno finché Willy dichiara guerra a Niki. Ma anche la Russia ha un altro grande alleato la Francia che odia la Germania dai tempi della guerra del 70 dell'Alsazia e Lorena che ha una gran paura della Germania e che è alleata della Russia proprio in funzione antitedesca. Quindi a questo punto anche la Francia entra in guerra. Quattro delle sei grandi potenze europee nel giro di pochi giorni sono in guerra. Dico le sei grandi potenze perché si era affermata questa abitudine di designare così i principali paesi europei e le sei grandi potenze erano. Beh la più importante di tutte la Gran Bretagna che fino a poco tempo prima era il più grande paese industriale del mondo che ancora adesso è padrona di mezzo mondo, dell'India, di colonia dappertutto, la più forte marina del mondo. Non è più sicuro che sia la prima potenza mondiale perché ne è venuta fuori un'altra la Germania che ormai come industria ha sorpassato l'Inghilterra e anche come esercito. Queste sono le due più grandi potenze. Poi c'è la Francia che è una grande potenza un po' più ridotta. Poi c'è la Russia che nessuno sa davvero quanto sia potente perché è enorme ma povera è un mistero per tutti. Poi c'è l'Austria e Ungheria che è più debole di sicuro è più debole delle altre però è comunque una grande potenza e poi per abitudine si considera grande potenza anche l'Italia. Più che altro perché noi ci teniamo moltissimo e allora per cortesia anche l'Italia è considerata una delle sei grandi potenze ma tutti sanno che è la più debole. Allora la più grande la Gran Bretagna e l'ultima l'Italia sono rimaste fuori per il momento. La Gran Bretagna non ha nessuna voglia di fare questa guerra per Sarajevo e fa sapere ai tedeschi che loro sono anche disposti a restare fuori benché la Gran Bretagna sia amica della Francia però insomma questa guerra è una roba sapete in Inghilterra ogni tanto viene fuori lo spirito della Brexit no? È una cosa continentale fatevela voi. Soltanto l'Inghilterra ha una cosa da chiedere ai tedeschi non dovete toccare il Belgio perché il Belgio è una creazione della politica inglese e all'epoca la geografia è ancora più importante di adesso non pensate dov'è il Belgio sulla manica di fronte all'Inghilterra con i suoi porti anversa che garantiscono agli inglesi il collegamento col continente qualunque cosa succeda quindi gli inglesi dicono una cosa sola ai tedeschi noi stiamo fuori dalla vostra guerra ma lasciate stare il Belgio. I politici tedeschi convocano i militari e gli spiegano così e così fantastico l'Inghilterra resta fuori però dobbiamo lasciare stare il Belgio. I generali tedeschi dicono ah peccato perché noi abbiamo un piano perfetto per conquistare la Francia è un piano che abbiamo studiato per 30 anni è preciso in ogni dettaglio in tre settimane saremo a Parigi garantito al 100% però prevede di invadere il Belgio perciò la Germania invade il Belgio e quando i politici tedeschi chiedono ai generali se si può cambiare piano al comandante in capo dell'esercito viene un infarto perché è già tutto pronto tutti i treni tutti gli orari tutti i piani non si può perciò i tedeschi invadono il Belgio e anche l'Inghilterra entra in guerra. Cinque delle sei grandi potenze sono in guerra e la sesta l'Italia decide di restare fuori non che non fossimo anche noi implicati in quel gioco delle alleanze che ha portato in guerra tutti gli altri e anche noi eravamo compromessi da un'alleanza ed eravamo alleati della Germania e dell'Austria era la triplice alleanza era un'alleanza da un certo punto di vista molto innaturale l'alleanza fra Italia e Austria era una delle cose più straordinarie della politica di quell'epoca perché l'Italia aveva sempre considerato l'Austria come il suo nemico ereditario e generazioni di italiani avevano imparato a scuola che l'impero austriaco era appunto l'impero degli oppressori degli impiccatori dei patrioti eppure noi eravamo loro alleati ed era assurdo anche da parte austriaca essere alleati con noi perché anche l'Austria non aveva mai mandato giù l'unificazione dell'Italia specialmente i militari austriaci non avevano mai digerito tutte quelle guerre le guerre di indipendenza dell'ottocento in cui gli italiani perdevano tutte le battaglie a custoza alissa però poi alla fine grazie ai nostri alleati vincevamo noi e l'Austria ogni volta doveva cedere un pezzo i militari austriaci nel 1914 non vedevano l'ora di vendicarsi dell'Italia cito un episodio pochissimi anni prima 1908 terremoto di Messina centomila morti l'Italia in ginocchio tutte le scarse risorse della flotta dell'esercito impegnate nei soccorsi da tutto il mondo ci mandano solidarietà aiuti arrivano navi americane russi ad aiutare a Vienna il comandante in capo dell'esercito austriaco del maresciallo Conrad va dall'imperatore Francesco Giuseppe e gli propone dichiariamo guerra all'Italia non avremo mai più un'occasione come questa poi non lo fanno ma il clima è quello e allora com'è che noi siamo loro alleati il fatto è che anche se l'Italia e l'Austria si odiano però sia noi sia loro vogliamo essere alleati della Germania perché la Germania è un'altra cosa la Germania ecco in Italia alla fine dell'ottocento la Germania è un paese ammiratissimo la Germania è tutto quello che noi vogliamo diventare un grande paese moderno industriale rispettato potente noi stiamo facendo la rivoluzione industriale la Fiat è stata fondata nel 1899 e in quei 15 anni è andata avanti l'industria italiana ormai c'è debole ma c'è e in gran parte questa rivoluzione industriale nostra l'hanno finanziata investitori tedeschi ci sono industriali tedeschi che lavorano in Italia ed è già pieno all'epoca quando scoppia la prima guerra mondiale è già pieno di italiani che lavorano in Germania pieno faccio un piccolo salto in avanti verso una vicenda che racconterò domani mattina la battaglia di Caporetto a Caporetto i tedeschi catturano 300.000 prigionieri italiani e rimangono stupefatti vedendo com'è facile in mezzo a tutti quegli italiani trovare qualcuno che parla tedesco perché moltissimi di loro sono stati a lavorare in Germania prima della guerra e quando tornano dalla Germania questi dicono che paese funziona tutto pagano bene si vive bene la Germania è il futuro però questa cosa negli ultimi anni verso il 1914 si è un pochino modificata la Germania continua a essere un paese che noi ammiriamo moltissimo e quindi per quello siamo entrati nella triplice alleanza però negli ultimi anni la Germania oltre a essere ammirata comincia anche a fare paura perché i tedeschi sembra che non sappiamo dove fermarsi hanno costruito un'industria formidabile sono diventati la prima potenza industriale del mondo hanno costruito un esercito formidabile il più potente esercito del mondo quanto alla flotta c'è ancora l'Inghilterra che ce l'ha molto più forte i tedeschi non smettono di costruire corazzate e si sono esplicitamente proposti di diventare i più forti del mondo anche con la flotta e la Germania agli occhi del pubblico è incarnata dal Kaiser Guglielmo il quale è un personaggio che ha un carattere disturbato arrogante insicuro va in giro minacciando in occasione di qualunque crisi internazionale alza la voce le sue caricature con l'elmo a chiodo e i baffoni sono conosciute dal pubblico di tutto il mondo la Germania è quello e fa paura anche in Italia per darvi un'idea vi leggo alcune una frase dell'epoca un giornalista italiano descrive nel 1914 l'ambasciatore tedesco a Roma l'ambasciatore tedesco a Roma signor von Flotow dice il nostro giornalista è persona semplice assai cortese di tipo fine e delicato e direi quasi decadente assolutamente diverso dal solito teutone ora alla ribalta non sembra il rappresentante della potenza più ammirata anzi paurosamente ammirata capite cosa voglio dire un tedesco per bene mite fine e delicato la reazione che provoca in Italia non sembra mica tedesco il tedesco che siamo abituati a incrociare il teutone con l'elmo a chiodo che ci fa un po paura con tutto questo quando c'è l'attentato di Sarajevo in Italia come nel resto del mondo nessuno si immagina che cosa sta per succedere il ministro degli esteri nostro il marchese Antonino di San Giuliano siciliano va dal presidente del consiglio Salandra pugliese a dargli questa notizia a Sarajevo hanno ammazzato Francesco Ferdinando e il commento del nostro ministro degli esteri dando la notizia al presidente del consiglio è così ci siamo liberati da quella scocciatura di Villa d'Este cos'è la scocciatura di Villa d'Este Villa d'Este a Tivoli capolavoro dell'architettura rinascimentale era di proprietà dell'arciduca Francesco Ferdinando non chiedetemi perché lui la voleva vendere allo stato italiano e lo stato italiano per decenza non poteva tirarsi indietro ma l'arciduca chiedeva troppo due milioni di lire lo stato italiano non li aveva non li voleva dare però non poteva neanche dirgli di no perché come facciamo a non ricomprare un capolavoro dell'arte nazionale risultato quando viene ammazzato Francesco Ferdinando la reazione privata del nostro ministro degli esteri è almeno ci siamo tolti quella seccatura di Villa d'Este ben inteso ci sono anche altre reazioni perché l'arciduca non era amato in Italia l'arciduca era conosciuto come uno di quelli del partito della rivincita legato a quei militari che sognavano di dare prima o poi una bella lezione agli italiani per cui il pubblico italiano lo considerava una figura ostile quando viene ammezzato molti festeggiano pare che in un cinema di Roma quando arriva la notizia dell'attentato di Sarajevo sospendano la proiezione e il pianista comincia a suonare la marcia reale cioè l'inno nazionale nostro di allora c'era ancora il cinema muto ovviamente col pianoforte in sala tanto per darvi il quadro non dico completo ma una pennellata in più quando viene ucciso Francesco Ferdinando non è soltanto in Italia che molti si dicono beh se lo meritava perfino in Austria Ungheria c'era chi lo odiava e trova che è un'ottima cosa che sia stato tolto di mezzo in particolare in Ungheria sapete com'era l'Austria Ungheria all'epoca erano due stati autonomi quasi indipendenti in comune avevano soltanto un pezzo dell'esercito e un ministro degli esteri per il resto c'era il governo Ungherese il Parlamento Ungherese quello austriaco l'arciduca Francesco Ferdinando voleva trasformare l'impero austriaco basato su due nazionalità dominanti i tedeschi e gli ungheresi in un sistema a tre gambe creando un'entità slava una specie di Jugoslavia asburgica sottraendo potere agli ungheresi perciò gli ungheresi odiavano Francesco Ferdinando c'è una scena in un romanzo che tanti di noi hanno letto la marcia di Radetzky di Josef Roth che si conclude con la notizia dell'attentato di Sarajevo che arriva in una sperduta guarnigione dell'esercito austriaco austro-ungarico in Galizia e lì alla mensa di un reggimento di cavalleria ungherese quando arriva la notizia che Francesco Ferdinando è stato assassinato gli ufficiali ungheresi brindano gridando in ungherese il porco è morto questo per la serie come va davvero il mondo poi uno legge gli epitaffi sui giornali sulle lapidi no ecco bene l'Austria decide di fare precipitare le cose per un attimo si chiede non è che magari l'Italia visto che siamo alleati entra in guerra insieme a noi in realtà gli austriaci sanno benissimo che non c'è neanche da pensarci però un pochino l'idea la accarezzano mentre la crisi sta esplodendo nel luglio 1914 l'ambasciatore austriaco a Roma che è anche lui un nobile ungherese parlando con un giornalista gli dice beh sì noi sicuramente finiremo per fare la guerra alla Serbia e magari ne verrà fuori una guerra mondiale ma voi voi venite con noi lo so che abbiamo litigato tanto in passato ma questa è proprio l'occasione per dimenticare tutti i vecchi dissapori venite con noi vedrete che se l'Italia si schiera con l'Austria è sempre l'ambasciatore austro-ungarico a Roma che sta parlando e magari i francesi non oseranno entrare in guerra si prenderanno paura a dire la verità la frase dell'ambasciatore è se voi entrate in guerra i francesi si spaventeranno del resto hanno già i pantaloni pieni cioè se la sono fatta addosso per la seria il raffinato linguaggio diplomatico della belle epoca no ecco e poi appunto l'ambasciatore austro-ungarico a Roma prosegue dicendo venite con noi tanto la guerra si vince l'esercito tedesco in tre settimane sarà Parigi e a quel punto festeggeremo l'interlocutore italiano gli dice dimenticate un piccolo dettaglio l'Inghilterra e l'ambasciatore austro-ungarico risponde e cosa può fare l'Inghilterra ci penseranno gli Zeppelin i dirigibili tedeschi bombardando Londra dal cielo e questo non sarà del Jules Verne ve l'ho voluto leggere per darvi un'idea della mentalità di quella generazione l'Europa è governata da una generazione di gente da bambini hanno letto i romanzi di Verne e lì c'erano tutte le mirabilie possibili no il sottomarino il razzo sulla luna il super cannone tutte cose di fantascienza e poi questa generazione molte di quelle cose le ha viste nascere questa è una generazione ubriaca di tecnologia e quindi del senso di potere di strapotere che ti dà la tecnologia abbiamo il treno l'automobile il camion l'aeroplano il sottomarino i super cannoni super esplosivi e in questa ubriacatura entrano in guerra uno dopo l'altro e l'Italia deve decidere cosa fare ora io dico l'Italia ma in realtà sono tre uomini che hanno deciso cosa fare e il primo il presidente del consiglio Antonio Salandra che è un uomo politico italiano normalissimo che non sarebbe passato alla storia se non si fosse trovato lì in quel momento è un giurista come molti politici italiani professore universitario di giurisprudenza poi si è buttato in politica è stato ministro più volte ma è presidente del consiglio per la prima volta da tre mesi non l'ha mai fatto quel lavoro poi c'è il ministro degli esteri il marchese di san giuliano è una vecchia volpe della politica e poi c'è il re vittorio emanuele terzo il re piccolino popolare all'epoca cauto sono loro tre perché la camera in quel momento è in vacanza e non è previsto per il momento richiamarla e perciò le decisioni le prendono il presidente del consiglio il ministro degli esteri e il re e tutti e tre si dicono no anche se siamo alleati dell'Austria però onestamente entrare in guerra a loro fianco è impossibile l'Austria ha fatto una follia scatenando questa guerra noi stiamo fuori la frase più ripetuta negli ambienti politici romani in quel momento è se uno si butta dalla finestra non c'è ragione che un suo amico gli vada dietro naturalmente noi saremmo alleati dell'Austria ma no anche quella basta andare a leggere bene il trattato e in effetti hanno ragione il trattato della triplice alleanza è stato fatto da politici che sapevano benissimo che i balcani sono una polveriera perché nei balcani tutti vorrebbero espandersi e in particolare noi e l'Austria vorremmo allargare la nostra influenza nei balcani e quando hanno firmato il trattato della triplice non sono stati come dire ci hanno pensato bene e c'è una clausola che dice ognuno degli alleati prima di fare qualunque mossa nei balcani deve consultare gli altri l'Austria ha mandato l'ultimatum alla Serbia in pratica costringendola alla guerra senza consultarci perciò noi non siamo in nessun modo tenuti a entrare in guerra e questo lo sanno tutti anche i tedeschi gli austriaci perciò il re vittorio emanuele terzo scrive al kaiser guglielmo spiegandogli che appunto l'italia non è tenuta a entrare in guerra che noi avremmo preferito che l'Austria non la facesse scoppiare questa guerra e comunque visto che la guerra c'è il re vittorio fa gli auguri alla germania e si firma il tuo alleato e tuo fratello noi conosciamo la reazione del kaiser guglielmo a questo messaggio di vittorio emanuele terzo perché l'ha annotata di suo pugno a margine furfante che faccia tosta dopodiché siamo l'italia in linea di massima non entriamo in guerra ma non si sa mai agli ambasciatori nelle varie capitali europee il ministero degli esteri manda delle istruzioni che dice per ora restiamo fuori ma se qualcuno ci offrisse dei compensi ora quella è ancora un'epoca in cui gli ambasciatori contano molto anche se hanno già il telefono il telegrafo però però c'è ancora la tradizione di una diplomazia in cui un ambasciatore che sta per anni in una capitale parla bene la lingua conosce tutti ebbene fa politica l'ambasciatore conta e infatti il nostro ambasciatore più Pietroburgo immediatamente va dal ministro degli esteri russo e gli dice l'italia potrebbe anche entrare in guerra con voi se volete cosa offrite invece l'ambasciatore a berlino bollati il quale un filo tedesco in genere si cerca di mandare uno che sia amico del paese dove va a lavorare l'ambasciatore a berlino è filo tedesco si è molto compromesso sull'alleanza fra italia e germania quando capisce che noi l'alleanza facciamo finta che non ci sia e non entriamo in guerra il nostro ambasciatore a berlino ci rimane malissimo gli sembra che perdiamo la faccia perciò si precipita a roma va dal suo capo il ministro degli esteri marchese di san giuliano e gli dice che lui a berlino non ci torna a queste condizioni piuttosto mi suicido poi il giorno dopo cambia leggermente versione e fa sapere al ministro che lui a berlino non ci torna piuttosto presenta un certificato medico il ministro san giuliano gli risponde se proprio non vuole tornare a berlino era meglio il primo sistema quali sono i motivi per cui i capi del paese hanno deciso che noi in questa guerra non ci possiamo entrare ma la principale è la debolezza dell'italia sappiamo tutti di essere una potenza di seconda categoria è una debolezza economica innanzitutto io vi cito un solo dato per darvi l'idea perché non ce la immaginiamo la debolezza dell'italia rispetto alle altre grandi potenze vi cito un dato la produzione di acciaio che all'epoca era in assoluto come dire la produzione più importante quella su cui si misurava la potenza di un paese quello che serviva per fare i treni ma anche le corazzate gli armamenti per ogni tonnellata d'acciaio prodotta in italia nel 1914 la germania ne produce 19 l'inghilterra 9 la francia andiamo sempre calando 5 perfino l'austria produce 3 tonnellate di acciaio per ogni tonnellata che produce l'italia il triplo e il resto è uguale e questo produce ovviamente anche debolezza militare l'esercito non è preparato non ha cannoni non ha riserve di munizioni non ha niente perciò stiamo fuori per forza ma c'è anche un'altra percezione di questi politici che li spinge a dire quasi subito no 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 noi stiamo fuori ed è interessante questa percezione e la percezione l'impressione che anche se la guerra è nata da un caso però i tedeschi l'aspettavano e la volevano questa guerra e sono decisi a usarla a vincerla sono sicuri di vincerla i tedeschi la guerra e sono decisi a usarla per diventare i padroni del mondo salandra presidente del consiglio in un'intervista un giornalista lo dice molto chiaramente fin da subito questa è una aggressione intesa a stabilire una schiacciante egemonia teutonica sull'europa e nel mondo e salandra dice noi non possiamo farci complici di questo complotto anche perché le conseguenze peggiori sarebbero per noi se la germania domina il mondo schiaccia tutti gli altri anche noi vedete interessante due volte nella prima metà del novecento un presidente del consiglio italiano si è trovato nella stessa situazione la germania ha scatenato una guerra e sicura di vincerla e vuole dominare il mondo nel 1914 salandra dice perciò noi non possiamo certo aiutarla nel 1940 come sapete mussolini farà esattamente il ragionamento opposto solo che solo che non è facile fermarsi lì perché una volta che hai deciso che tu non entri in guerra perché se entrassi dovresti entrare con l'austria e con la germania e tu non vuoi aiutarli a vincere perché in realtà non vuoi affatto che vincano hai paura che vincano però allora il passo è molto breve a dire ma allora aiutiamo quegli altri non è che stiamo fuori e basta salandra lo dice anche lì entro gennaio forse già dicembre dicembre a dicembre in un'intervista il presidente del consiglio dice noi dobbiamo augurarci che gli imperi centrali siano sconfitti sentite qua non deve più essere possibile ad alcuni individui anormali pensa al kaiser guglielmo di macchinare un tale attentato contro la pace la libertà il benessere del mondo la germania è già vista e proiettata come il colpevole che ha scatenato questa guerra e salandra dice figuratevi se vincono l'ambasciatore tedesco a roma che già adesso va in giro come se fosse il padrone del mondo figuratevi se vincono questa guerra il risultato però è che allora dobbiamo impedirgli di vincerla il comandante dell'esercito cadorna il quale ovviamente risponde alla politica e quindi quando gli hanno detto non sappiamo ancora cosa succede ha preparato i piani per entrare in guerra al fianco della germania c'è un piano noi mandiamo cinque corpi d'armata sul reno per aiutare i tedeschi a attaccare la francia è un piano e sta lì nel cassetto ma già il 18 settembre in una lettera privata cadorna scrive certo che se germania e austria saranno disfatte sarà vantaggioso per noi guai se vincessero perché allora si vendicherebbero e poiché il nostro interesse è che siano schiacciate così dobbiamo aiutare gli altri a schiacciarle fare questi discorsi è più facile a settembre di quanto non fosse ad agosto perché ad agosto sembrava che i tedeschi arrivassero davvero a parigi e invece non ci sono arrivati la guerra si è fermata è diventata la guerra di trincea non succede più niente sul fronte occidentale siete presente il romanzo di remark niente di nuovo sul fronte occidentale ecco sul fronte orientale invece succede qualcosa l'austria le sta prendendo i russi stanno sconfiggendo gli austriaci in modo catastrofico sembra quasi che stiamo per invadere l'ungheria a questo punto in italia una parte dell'opinione pubblica comincia a pensare che è ora di far vedere agli austriaci quello che pensiamo veramente di loro nasce l'interventismo sostenuto da molti giornali fra cui il più influente di tutti il corriere della sera diretto da luigi albertini che è un giornalista influentissimo non voglio dire uno scalfari dell'epoca di più più influente con più conoscenze più capace appunto di influenzare la politica albertini butta il corriere della sera nella direzione della propaganda per l'intervento dobbiamo entrare in guerra ma non con l'austria germania contro di loro l'interventismo è un fenomeno complesso a tante anime oggi oggi uno dice ma come è possibile che con una carneficina come quella in corso ci fosse gente che smaniava per mandare anche i nostri a farsi massacrare oggi rischia di sembrare incomprensibile no e invece ci sono tante ragioni c'era un interventismo democratico che appunto vedeva l'austria e la germania come gli imperi impiccatori militaristi degli stivali e degli elmi a chiodo mentre le potenze occidentali democratiche si battono per la libertà la democrazia e inoltre noi dobbiamo pur completare il risorgimento liberando dall'oppressione trento trieste e così via tenete conto che i tedeschi allo scoppio della guerra non hanno fatto niente per cancellare questa cattiva impressione anzi in belgio e in francia fucilano civili impiccano gente bruciano villaggi su una dimensione che ricorda quello che faranno poi nel 1940 39 40 in polonia ci sono e queste notizie vengono ovviamente esasperate dalla propaganda dei loro avversari le atrocità tedesche in belgio le fucilazioni di civili e tutto questo conta l'antipatia per la germania cresce e questo è l'interventismo democratico ma c'è anche l'interventismo futurista degli intellettuali dei poeti come marinetti i quali sognano la velocità la potenza le armi la tecnologia e pensano che la guerra è una bella cosa perché deve svecchiare questo paese di mandolinisti il capo e marinetti filippo tommaso marinetti sentite cosa pensa marinetti noi vogliamo glorificare la guerra sola igiene del mondo il militarismo il patriottismo le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna ancora marinetti la guerra è l'unico timone di profondità della nuova vita aeroplanica che prepariamo la guerra futurismo intensificato ucciderà il passatismo la guerra e la sintesi culminante e perfetta del progresso la guerra ringiovanirà l'italia la arricchirà di uomini d'azione la costringerà a vivere non più del passato delle rovide e del dolce clima ma delle proprie forze nazionali e qui il futurismo si salda con l'altra corrente dell'interventismo quella nazionalista imperialista c'è tutta una corrente che pubblica sui giornali che è influenzata dalla teoria di darwin che all'epoca era dominante vince il più forte sopravvive solo il più adatto la vita è una lotta continua bisogna prevalere bisogna vincere ci sono articoli sui giornali nazionalisti che dicono tutte queste chiacchiere sulla libertà dei popoli la lotta all'imperialismo sono tutte balle e ben peraltro che noi dobbiamo fare questa guerra cito la guerra che si combatte oggi in europa non è la guerra della democrazia pacifista contro l'imperialismo militare è guerra di popoli e di razze per l'esistenza per la ricchezza per il dominio e il redominio e noi cosa vogliamo entrando in questa guerra noi vogliamo la guerra per il compimento dell'unità nazionale va bene queste sono le chiacchiere dei democratici trento trieste non diremo certo di no ma anche specialmente sentite l'elenco per la nostra padronanza dell'adriatico per il nostro incremento nel mediterraneo per la nostra influenza nei balcani per la nostra espansione nel levante per l'eredità della turchia in asia minore e soprattutto perché l'italia partecipi oggi alla storia del mondo in altre parole se stiamo fuori non conteremo niente dobbiamo entrare essere fra quelli che vinceranno schiacceranno il nemico e si impadroniranno del mondo intanto però non c'è deciso niente e gli ambasciatori degli imperi centrali a roma sperano ancora sempre che entriamo in guerra con loro no ma a questo punto gli basta che restiamo fuori avendo capito l'aria che tira l'ambasciatore tedesco e quello austriaco fanno tutto quello che possono per convincere il nostro governo a restare fuori un giornalista chiede a salandra come si stanno comportando l'ambasciatore tedesco e quello austriaco risponde salandra un contegno angelico sono diventati degli agnelli pronti a dare soddisfazione per qualunque questione san giuliano dice che fare il ministro degli esteri in italia non è mai stato così piacevole perché tutti gli ambasciatori stranieri vengono a corteggiare il ministro degli esteri ovviamente però il ministro degli esteri il marchese di san giuliano è molto malato e il 16 ottobre 1914 muore commemorandolo alla camera salandra che ha preso l'interim del ministero pronuncia un discorso in cui dice che l'unico criterio della politica estera italiana deve essere la difesa del nostro interesse il sacro egoismo per l'italia questa frase del sacro egoismo viene ripresa dai giornali fa molto rumore salandra si stupisce ma in fondo cosa ho detto che la nostra politica estera fa il nostro interesse però era raro che si dicesse in modo così esplicito in quella sede che noi siamo egoisti ci interessa solo il nostro interesse quasi subito salandra deve nominare un ministro degli esteri entra in scena l'ultimo personaggio che deciderà l'entrata in guerra è il barone sidney sonnino è un politico italiano di tipo molto insolito tanto salandra avvocato e professore pugliese è un classico politico italiano tanto il barone sonnino è un tipo stranissimo il padre è un ebreo toscano che però è vissuto facendo affari in egitto la mamma è inglese anzi gallese credo e il barone sonnino è protestante che per un politico italiano è già come dire un cocktail insolito sonnino è convinto che in guerra bisogna andarci lui si è fatto una sua idea che il popolo lo chiede poi quando gli vanno a chiedere ma il popolo tutto sonnino dice ma lo so anch'io che il grosso del popolo in realtà ma non sono gli ignoranti gli analfabeti che importano la maggioranza è per pacifismo così per la vita comoda ma ma se noi crederemo lo cito sonnino ministro degli esteri se noi crederemo che la guerra sia necessaria per l'italia dovremo e sapremo decidere al di sopra delle opinioni della folla e sonnino è convinto che la guerra bisogna farla perché ha uno strano ragionamento sonnino si è convinto che questa occasione di riprendere trento e trieste non la possiamo perdere che se ce la perdiamo il paese rimarrà sconvolto e ci sarà la rivoluzione e cadrà la monarchia non ci crede nessuno neanche vittorio emanuele terzo il quale dice sonnino ai paraocchi come i cavalli vede una cosa sola davanti a sé ma sonnino è convinto e con questa motivazione spinge salandra all'entrata in guerra contro l'austria e la germania il movimento interventista impazza nel paese si aprono nuovi giornali politici famosi cambiano idea all'improvviso il più famoso di quelli che cambiano idea all'improvviso e mussolini naturalmente esponente di punta del partito socialista che di colpo cambia idea viene espulso dal partito fonda il suo giornale il popolo d'italia e comincia una campagna fuoribonda per spingere l'italia in guerra al fianco della francia e dell'inghilterra c'è un vecchio pettegolezzo che tutti quanti abbiamo sentito era pagato dai francesi sì certo era assolutamente pagato dai francesi mussolini se non che la cosa è meno insolita di quello che potremmo pensare perché andando a leggere le cronache dell'epoca viene fuori che nell'italia del 1914 15 era perfettamente normale che le ambasciate straniere pagavano i giornalisti pagavano anche i politici e non solo pagavano i giornalisti ma compravano proprio i giornali sotto gli occhi di tutti in quei mesi l'ambasciata tedesca compra la nazione di firenze e progetta di comprare il messaggero poi il messaggero non lo comprano ma insomma si fa alla luce del sole e solo pochi giornali di estrema sinistra o repubblicani pubblicano articoli in cui si dice ma stiamo dando uno spettacolo indecoroso c'è un fiume d'oro che arriva su roma per comprare i nostri giornali i nostri giornalisti siamo in vendita al miglior offerente la campagna interventista coinvolge molto i giovani gli studenti è importante gli studenti sono pochi pochissimi rispetto a oggi ma sono la classe dirigente di domani e gli studenti sono in massa per l'intervento per la guerra risultato succedono scene che non ci immagineremmo nell'italia del 1914 ma magari in altri anni sì il 9 dicembre del 14 alla sapienza deve far lezione il filologo cesare dell'hollis grande filologo grande amico della germania già da tempo insultato sui giornali pubblicamente come traditore perché amico della germania quel giorno gli studenti gli impediscono con la violenza di entrare in aula e di fare lezione invece in aula arriva filippo tommaso marinetti il quale sale in piedi sulla cattedra arringa la folla incitando alla guerra contro la germania urla fischia spacca i vetri dell'aula arriva il rettore della sapienza siamo a roma alla sapienza non so se l'ho detto arriva il rettore della sapienza e fa marinetti lei profana questa cattedra marinetti risponde me ne frego e uno non sa se siamo appunto già nel 22 o se siamo già nel 68 ma insomma sono cose che non ci saremmo immaginati nell'italia della belle epoca invece nel 14 succedono gli ambasciatori tedesco soprattutto austriaco cosa fanno fanno promesse o meglio il tedesco fa promesse perché noi vogliamo trento e trieste quindi è l'austria che deve mollare e l'austria non ci sente i tedeschi insistono noi abbiamo poi letto le carte segrete da cui risulta che il kaiser guglielmo e i suoi ministri fanno pressioni sugli austriaci dicendo promettete trento e trieste agli italiani per favore poi tutt'al più dopo la guerra non gliele diamo ma intanto promettetele il vaticano interviene il vaticano ci tiene molto che l'italia resti neutrale il vaticano ha un rapporto molto forte con l'austria grande potenza cattolica un personaggio di cui poi si parlerà ancora monsignor pacelli futuro più dodicesimo viene spedito dal papa a vienna in carico convince il vecchio imperatore a cedere almeno trento il vecchio imperatore non ci sente i tedeschi cambiano l'ambasciatore a roma il signor von flotow ve lo ricordate quello delicato gentile che non sembra neanche un tedesco non va bene nell'occasione mandano un pezzo da 90 il principe bülow che è stato già primo ministro ministro degli esteri del reich e che un grande filo italiano ha sposato una principessa siciliana bülow si installa nell'ambasciata tedesca a roma comincia a spendere soldi comprare giornalisti e fare promesse gli italiani gli chiedono ma trento bülow risponde ci sto lavorando ma lo sapete come sono fatti gli austriaci perché non potremmo promettervi invece e di fatto gli promettono arriva con la lista delle promesse nizza la savoia la corsica tunisi tutta roba che non è loro e di conseguenza ma gli italiani sono testardi vogliono trento a un certo punto il caesar francesco giuseppe si convince a metà si scopre che il trentino in realtà nel medioevo era formato da una contea e un vescovado la contea è feudo dell'imperatore lui non la vuole cedere ma il vescovado di trento magari sì quando l'ambasciatore austriaco va a raccontare queste cose al nostro governo si mettono le mai nei cappelli se questa gente fa ancora la diplomazia a base di feudi e consulta araldica niente il governo italiano entro gennaio ha deciso la guerra l'unica cosa è che siccome non siamo pronti bisogna tirare un po in lungo perciò il governo notate come funzionava non voglio dire la democrazia però c'era il suffragio universale come funzionava l'italia parlamentare di allora il governo convoca i giornalisti uno per uno e spiega quello che si aspetta da loro salandra presidente del consiglio al direttore della tribuna dice in buona sostanza cominciate a preparare l'opinione pubblica ma senza esagerare perché non siamo ancora sicuri per ora è bene che la stampa si conduca con prudenza e non ecciti né deprima conviene come si fa nelle osterie di campagna con la pasta e col riso tenere l'opinione pubblica a mezza cottura l'opinione pubblica a mezza cottura vuol dire sì forse ma intanto trattiamo con gli alleati ci siamo decisi a londra si aprono i negoziati da roma è arrivata una lista di richieste per entrare in guerra insieme a voi vogliamo il trentino ma non solo anche il suttirolo a questo punto non solo trento ma anche bolzano fino al brennero trieste la venezia giulia l'istria la dalmazia con le sue isole valona in albania il bacino carbonifero di adalia in turchia uno dei principali politici inglesi dell'epoca lloyd george nelle sue memorie scriverà nessuno di noi si preoccupò di sapere con precisione cosa voleva l'italia l'importante vi diciamo di sì su tutto dai che ne abbiamo ancora un pezzetto sforerò un pochino ma di poco promesso il 26 aprile viene firmato il patto di londra che impegna l'italia a entrare in guerra entro un mese ricordatevi le date 26 aprile e noi il 24 maggio entreremo in guerra l'ultimo articolo del patto di londra dichiara questo accordo verrà mantenuto segreto lo sanno soltanto salandra sonnino e il re il quale re manda dei telegrammi al re d'inghilterra e allo zar di russia dicendo congratulazioni adesso siamo alleati stiamo per entrare in guerra al vostro fianco firmato il patto di londra a salandra e sonnino e al re viene in mente un piccolo dettaglio non è ben chiaro se avevano il potere di fare questa cosa perché l'hanno firmato il parlamento non sa niente il parlamento è in vacanza ha sospeso i lavori a marzo deve riaprire il 12 maggio e il parlamento vanno a vedere lo statuto cosa dice sonnino dice fantastico lo statuto dice che il re ha il potere di dichiarare la guerra siamo a posto però lo statuto dice anche che poi la camera deve confermare i crediti di guerra e i pieni poteri al governo quindi ci vuole la conferma della camera e la camera in realtà in maggioranza è neutralista qui devo introdurre un nuovo personaggio l'ultimo spero che introduco finora non l'abbiamo citato per niente ma è il convitato di pietra per tutti loro era un'ossessione finora non è comparso giolitti che era stato padrone della politica italiana per dieci anni quindici anni un personaggio che aveva influenzato enormemente la politica italiana e che nel marzo del 14 si era dimesso per una crisi parlamentare minore uno di quei casi in cui un governo dice ma sì è meglio fare un po' di alternanza mi dimetto per un po' metto uno che non conta niente chi mettiamo salandra ecco io giolitti sto fuori per un po' e poi torno tanto il parlamento lo controllo io ed è vero giolitti ha il controllo della maggioranza dei parlamentari giolitti non voglio farvi perdere tempo ma è stato un protagonista della storia italiana di dimensioni enormi ha governato per tanti anni e ovviamente tanti hanno cominciato a odiarlo gli avversari politici e anche quelli del suo partito lo odia la borghesia di destra perché giolitti ha autorizzato gli scioperi le camere del lavoro ha dato il suffragio universale ma lo odiano anche molti progressisti perché giolitti al nord ha fatto gli accordi con i sindacati ma al sud come denuncia gaetano salvemini grande meridionalista in un libro che esce proprio in quegli anni e che si intitola il ministro della malavita al sud giolitti governa con le squadracce coi pestaggi con la polizia che mette in galera gli oppositori con cose inimmaginabili che anche lì a leggere il libro di salvemini c'è da mettersi le mani nei capelli di quello che succedeva alle elezioni in italia nei primi anni del novecento quindi giolitti è odiatissimo e adesso per uno sbaglio suo non si trova al potere però però adesso giolitti e i suoi cominciano a subodorare anche se il patto di londra è segreto però i preparativi si vedono e allora i deputati cominciano a agitarsi la camera è chiusa riaprirà il 12 maggio i deputati ai primi di maggio sono già a roma montecitorio fisicamente è aperto i deputati vanno e vengono il governo il 7 maggio per prudenza proroga l'apertura anziché il 12 le apriamo il 20 le camere a questo punto la situazione precipita giolitti capisce che il governo lo sta ingannando perché a lui dicono no no non è deciso niente ancora giolitti capisce che l'hanno ingannato a un giornalista dice mi spiace dirlo questo di salandra è stato tutto un inganno da pugliese comunque giolitti si precipita a roma e il 9 maggio il governo è terrorizzato tanto che fa organizzare manifestazioni spontanee fra virgolette contro giolitti alla stazione di torino quando parte e alla stazione di roma quando arriva anche questa è una cosa sbalorditiva come si faceva politica in quell'italia malagodi grande giornalista direttore della tribuna scrive nel suo diario è arrivato giolitti contro il quale sono state organizzate d'accordo col ministero degli interni e la polizia manifestazioni alla sua partenza da torino e al suo arrivo a roma capite che roba dopodiché giolitti è fuori di sé dichiarazione di giolitti ai giornalisti la gente che al governo meriterebbe di essere fucilata vogliono portare l'italia alla guerra senza nessun motivo e giolitti insiste questa guerra non la possiamo fare l'italia è troppo debole uno dei suoi argomenti è molto interessante dice ragazzi io ho governato tutti questi anni abbiamo fatto la guerra di libia lo so solo io cos'è il nostro esercito ho dovuto sempre falsificare i bollettini degli scontri in libia per non mostrare che non si vinceva se non si era in dieci contro uno sempre giolitti a un giornalista i generali valgono poco sono usciti dai ranghi quando si mandavano nell'esercito i figli di famiglia più stupidi dei quali non si sapeva cosa fare finalmente siamo così poveri che una guerra non ce la possiamo permettere giolitti piomba a roma il 9 maggio il 10 maggio 300 deputati e più di 100 senatori passano da casa sua a lasciare il loro biglietto da visita che vuol dire che sono d'accordo con lui e quindi la maggioranza della camera è contro la dichiarazione di guerra a questo punto panico perché il governo scopre che nel frattempo ha già firmato l'alleanza e il re ha già mandato i telegrammi ai suoi colleghi allora si tenta di contenere i danni salandra dice va bene io mi dimetto è l'unica cosa che posso fare il re dice sì e io io devo abdicare qui c'è una e qui è veramente una cosa favolosa perché il re vittorio emanuele terzo in quei giorni al suo presidente del consiglio e anche a giolitti dice le seguenti cose primo sì io mi sono compromesso ho mandato i telegrammi ai miei colleghi il re d'inghilterra lo zar mi sono compromesso devo abdicare e va benissimo così il re lo farà mio cugino il duca d'aosta a lui piace a lui piacciono tutte queste cerimonie che a me mi o ad antib che non gliene importava proprio niente ancora dice il re ai suoi ministri io forse non sarei venuto qui al quirinale cioè al palazzo reale e volevo parlarne a mio padre ma egli morì in quel modo e io fui costretto a venire sapete umberto primo assassinato a monza e vittorio 15 anni dopo vittorio dice o cerca di far credere ai suoi ministri che lui prima avrebbe voluto lasciar perdere allora il ministro il governo si dimette il re minaccia di abdicare il vaticano decide che è il momento per spingere manda emissari dai ministri cattolici per dirgli che quella è l'ultima occasione per evitare la guerra tanto perché siano chiari i termini dei discorsi monsignor boncompagni ludovisi va da un ministro e gli dice che la guerra bisogna evitarla la guerra è ingiusta la vuole solo virgolette quell'ebreo traditore di sonnino il papa fa sapere al re che basta insistere un po e l'austria è pronta a cedere tutto anche gorizia tutto il mondo sa che a roma sta succedendo questo psicodramma per cui il kaiser guglielmo l'imperatore francesco giuseppe i loro primi ministri e i loro napi di stato maggiore si incontrano il 9 maggio al comando supremo austriaco e lì si decide che gli austriaci prometteranno tutto quello che gli italiani vogliono gli austriaci fanno mettere a verbale però poi dopo la guerra ci riprendiamo tutto e qui e qui bisogna capire cosa succede perché è una cosa quasi incomprensibile è l'ultimo atto di questo dramma nel giro di qualche giorno il paese e in particolare roma sono travolti dalle manifestazioni di piazza e le manifestazioni di piazza sono tutte per la guerra perché le manifestazioni per la guerra il ministero le lascia fare e quelle neutraliste invece la polizia picchia e le disperde perciò le piazze sono piene di gente che manifesta per la guerra chi manifesta per la guerra i borghesi gli impiegati a roma tutti gli impiegati di tutti i ministeri sono in piazza a manifestare gli studenti che ci credono e sono convinti le manifestazioni impazzano con una violenza impressionante uno dei protagonisti non è vero che ho finito ce n'è ancora uno ma lo conoscete tutti gabriele d'annunzio gabriele d'annunzio il più famoso scrittore letterato del paese da anni in esilio volontario in francia per non pagare i debiti torna trionfalmente in italia il 5 maggio a quarto dei mille tiene una grandiosa manifestazione per l'intervento in guerra poi si ferma qualche giorno a genova parte lasciando risulta da discussioni parlamentari dell'epoca un astronomico conto d'albergo per lui e due signore amiche sue che lascia da pagare al comune di genova va a roma e a roma appena arrivato a ringa la folla e questi discorsi sono di una violenza impressionante chiudiamo poi ci sarà poco pochissimo dopo con brevi brani dal grande discorso di d'annunzio a roma contro giolitti compagni non è più tempo di parlare ma di fare non è più tempo di concioni ma di azioni e di azioni romane se è considerato un crimine incitare alla violenza i cittadini io mi vanterò di questo crimine nella roma vostra si tenta di strangolare la patria i neutralisti con un capestro prussiano maneggiato da quel vecchio boia labrone giolitti aveva il labbro inferiore sporgente in tutte le caricature e lui che d'annunzio chiama in pubblico nella capitale quel vecchio boia labrone le cui calcagna di fuggiasco sanno la via di berlino se vince lui ci sarà da vergognarsi di essere italiani chiamarsi italiano sarà nome da nascondere nome da averne bruciate le labbra questo vuol fare di noi quell'ansimante leccatore di sudici piedi prussiani dopodiché d'annunzio con cui dicendo però non abbiate paura perché c'è il sistema per fermarli questa banda di schiavi di servi del nemico codesto servidorame di bassa mano teme i colpi a paura delle busse a spavento del castigo corporale io ve li raccomando vorrei poter dire io ve li consegno i più maneschi di voi saranno della città e della salute pubblica benemeritissimi risultato si moltiplicano le aggressioni i pestaggi di deputati giolittiani la casa di giolitti in via cavur viene aggredita gli studenti manifestano davanti a montecitorio a un certo punto invadono montecitorio in queste condizioni il governo di missionario il re cerca qualcuno che prenda l'incarico lo chiede a giolitti giolitti sbagliando forse chi lo sa dice di no nessun altro lo vuol fare il 16 maggio il re ridà l'incarico a salandra e lo rispedisce alla camera e la camera che il 10 maggio aveva una maggioranza per la pace il 20 maggio vota i poteri concessi al governo per la guerra cosa sia successo a ogni singolo deputato che ha cambiato idea sarebbe bello andare a vedere tutti cosa gli è successo in quei giorni fatto sta che la camera ha cambiato idea e il paese entra in guerra come combatteremo questa guerra e come la vinceremo lo racconteremo domani io qui però volevo chiudere con una specie di nemesi il patto di londra firmato il 26 aprile aveva come clausola il dover essere mantenuto segreto ma nel 1917 c'è la rivoluzione in russia nell'ottobre del 17 novembre per noi i bolcevichi prendono il potere e andando a frugare nei cassetti dei ministeri trovano il patto di londra e lo pubblicano immediatamente per far vedere al mondo che cos'è la diplomazia dei paesi capitalisti quali sono gli ideali per cui fanno la guerra vogliamo il brennero bellistria dalmazia la turchia l'albania ecco questa roba viene pubblicata in tutto il mondo da lenin peccato che a quel punto i nostri veri alleati non sono più la russia che è crollata o l'inghilterra e la francia è entrato in scena un altro protagonista e sono gli stati uniti gli stati uniti del presidente wilson gli stati uniti stanno vincendo la guerra e la vinceranno senza di loro non sarebbe stata vinta così facilmente gli stati uniti sono i padroni del mondo dal punto di vista economico hanno in mano tutti i rubinetti il grano il petrolio e il presidente degli stati uniti wilson è deciso a finire questa guerra senza dare soddisfazione a tutti quegli avidi arraffatori che pretendevano di avere questo e quello il presidente wilson ha detto chiaramente al mondo poi non riuscirà veramente nell'intento ma in quel momento la sua linea è libertà per i popoli autodeterminazione niente conquiste niente arraffa arraffa quando gli fanno vedere il patto di londra il presidente wilson fa notare che gli stati uniti non hanno firmato niente loro all'epoca non c'erano e perciò non sono minimamente tenuti a dare all'italia tutte quelle belle cose che gli altri avevano promesso risultato alla conferenza di pace ci faranno trangugiare bocconi amari e ogni singola cosa di quelle promesse che riusciamo ad avere sarà calata dall'alto e non si riuscirà ad avere tutto e il paese che ha già le ossa rotte per la guerra comincerà a sentire d'annunzio che parla di vittoria mutilata e insomma succederanno tante cose che sapete questo è come dire il frutto ultimo di quella diplomazia segreta che aveva fatto il patto di londra ma appunto come si arriverà a questo esito lo racconteremo domani grazie grazie buongiorno a tutti mi spiace per l'orario un po insolito e la levataccia di domenica ma quest'anno è andata così allora ieri abbiamo raccontato com'è che è stata presa dalle massime autorità politiche italiane la decisione di entrare in guerra il 24 maggio del 1915 oggi racconteremo quella che è stata la battaglia più importante da un certo punto di vista di tutta la guerra e certamente comunque la più famosa la più ricordata e che per un paradosso tipicamente italiano all'interno di una guerra che poi alla fine abbiamo vinto è però una battaglia perduta caporetto in realtà poi in enorme sintesi accennerò a tutto l'andamento della nostra guerra fino a quel momento perché per capire una battaglia bisogna sapere in che contesto si colloca una battaglia è come un momento di un lungo discorso una guerra è un lungo discorso combatti ribatti e la battaglia è una battuta è un momento ha un senso dentro un andamento più generale e il senso di caporetto è che va in contraddizione con tutto quello che era stata la nostra prima guerra mondiale fino a quel momento caporetto sapete non è una disfatta italiana in occasione di un attacco che il nemico monta sul nostro fronte ora noi abbiamo perso a caporetto anche fra i tanti motivi anche perché non eravamo abituati a essere attaccati la prima guerra mondiale l'abbiamo fatta sempre attaccando noi e qui c'è una logica molto precisa in guerra raramente le forze in campo sono pari come in una partita scacchi e quindi c'è un equilibrio che soltanto poi l'abilità di uno dei due può rompere in guerra non è quasi mai così le guerre sono asimmetriche c'è quasi sempre uno che è più forte e uno che è più debole e di solito quello che è più forte attacca e quello che è più debole cerca di difendersi ora noi il regno d'italia rispetto all'impero austro-ungarico eravamo certamente più deboli ieri sera ho citato delle cifre benché l'austria ungheria fosse la più debole delle grandi potenze europee a parte noi per ogni tonnellata d'acciaio che l'italia produceva l'austria ungheria ne produceva tre la germania ne produceva 19 lasciamo perdere ma comunque l'austria ungheria era più forte più popolosa più industrializzata di noi però noi entriamo in guerra nel maggio del 1915 in un momento in cui l'austria è già in guerra da dieci mesi e in quei dieci mesi ha subito delle batoste spaventose l'austria è il paese che ha scatenato la guerra aggredendo la serbia per punirla delle sue complicità nell'attentato di sarajevo le altre potenze sono entrate in guerra una dopo l'altra l'austria si trova in guerra contro la serbia nei balcani e contro la russia in galizia in polonia e in quei primi dieci mesi di guerra l'austria subisce delle sconfitte spaventose sia contro i serbi nei balcani sia soprattutto contro i russi in galizia l'esercito austriaco d'anteguerra è quasi annientato la maggioranza degli ufficiali austriaci in servizio all'inizio della guerra cadono o sono fatti prigionieri o feriti in quei primi dieci mesi di guerra nessuno può dare delle cifre precise sulle perdite ogni volta che vedete per la prima guerra mondiale delle cifre precise precise sappiate che non sono vere nessuno sa veramente in dettaglio quanti morti quanti feriti quanta gente sparita per sempre nemmeno la burocrazia europea di quell'epoca che era una burocrazia pignola attentissima peggio della nostra attuale era una burocrazia capace di contare quante galline c'erano nel pollaio di un contadino ma nemmeno la burocrazia di allora riusciva a tenere il conto degli uomini buttati nella fornace e che sparivano detto questo a occhio e croce l'esercito austriaco nei primi dieci mesi di guerra ha perso un milione di uomini quando si parla di perdite non si intendono morti perdite vuole sempre dire i morti i feriti i prigionieri i morti sono una minoranza però quell'esercito ha dovuto cancellare dai suoi ruolini un milione di uomini risulta e sta ancora combattendo su due fronti e noi entriamo in guerra e gli apriamo un terzo fronte perciò noi siamo obiettivamente più forti in quel momento il grosso delle forze austriache sono e rimarranno sempre fino a 1918 fino alla rivoluzione russa sono e rimarranno sul fronte orientale nei balcani contro di noi gli austriaci all'inizio non hanno niente e anche dopo faranno sempre un'enorme fatica per mettere in trincea quel minimo di uomini indispensabile per provare a difendersi noi abbiamo più uomini più cannoni più munizioni più aeroplani più da mangiare perciò attacchiamo noi noi entriamo nella prima guerra mondiale con la convinzione che entrando noi crolla tutto l'austria è già a lumicino combattendo su due fronti come fa a resistere entriamo noi crolla entro qualche mese anzi entro qualche settimana si va a trieste entro qualche mese a zagabria lubiana fine anno a vienna e si mette fine alla prima guerra mondiale e invece come sapete non va così ma non perché noi non abbiamo attaccato noi attacchiamo sapete com'è la linea del fronte il confine è ininterrotto ma ci sono solo due zone dove si può combattere perché il resto è alta montagna e in alta montagna si combatte pro forma si fanno belle imprese con gli alpini ma in realtà la guerra vera si fa dove arrivano le strade le ferrovie dove puoi portare le centinaia di migliaia di uomini le migliaia di cannoni la guerra vera si può fare solo in trentino e davanti a trieste e il nostro comando supremo cadorna decide fin dall'inizio che anche il trentino è troppo stretto non c'è abbastanza spazio per spingere perciò in trentino si starà fermi si attacca verso trieste attaccare verso trieste vuol dire attaccare sull'isonzo che grosso modo corre più o meno lungo il vecchio confine si tratta di passare l'isonzo di prendere un po' di montagne di prendere l'altipiano del carso e dietro il carso c'è trieste e lì a pochi chilometri sembra facilissimo come sapete non ci arriveremo mai se non alla fine della guerra ma non perché non ci abbiamo provato cadorna caporetto sarà il 24 ottobre 1917 in quei due anni e mezzo fino a caporetto cadorna attacca continuamente sul lisonzo undici battaglie del lisonzo la dodicesima sarà caporetto il fatto stesso che siano si chiamano tutte battaglie del lisonzo vi dimostra che non si andava tanto avanti si continua a spingere lì ogni tanto si va un po' avanti si prende un chilometro due chilometri tre chilometri di terreno una montagnola un'altra le grandi vittorie una grande vittoria nel 16 si prende gorizia dopo averci provato per un anno e mezzo finalmente si prende gorizia pochi chilometri poi si ricomincia a battere però attacchiamo sempre noi prima di caporetto gli austriaci attaccano sul nostro fronte una sola volta contro undici offensive di cadorna sullisonzo attaccano una sola volta nella primavera del 16 in trentino attaccano perché il comandante austriaco il felmaresciallo conrad ci tiene talmente tanto a provare a vendicarsi di quei traditori di italiani che erano nostri alleati nella triplice alleanza invece poi sono entrati in guerra contro di noi che anche se l'impero è all'umicino conrad riesce a convincere la politica a dargli le risorse i mezzi cannoni gli uomini per tentare un attacco una volta ci provano e quell'offensiva nel trentino appunto del maggio del 16 che i giornali battezzano subito la spedizione punitiva la strafexpedizione per punire appunto i traditori italiani e il nostro comando si aspetta talmente poco che quei pezzenti di austriaci possano attaccarci che viene preso completamente di sorpresa per cui gli austriaci nel maggio del 16 nel trentino sfondano travolgono le nostre linee vengono giù poi vengono fermati con uno sforzo enorme di tutto l'esercito dei comandi che riescono a gestire bene la cosa e naturalmente delle truppe che combattono come non aveva mai combattuto prima in quei posti che adesso danno i nomi alle nostre strade e alle nostre piazze il pasubio l'altipiano d'asiago passo vuole lì vengono fermati per un pelo perché per un pelo arrivavano a vicenza dopodiché l'unica volta che hanno attaccato loro dopo ricominciamo ad attaccare noi e loro hanno speso in quell'unico tentativo tutto quello che avevano noi stiamo sempre meglio il sistema funziona sempre meglio l'industria in italia cresce gli alleati ci aiutano primavera 17 entrano in guerra gli stati uniti arriva una valanga di roba noi stiamo bene gli austriaci stanno sempre peggio anzi a dirla tutta è un aspetto magari un po meno conosciuto della prima guerra mondiale l'austria è un impero che sta morendo di fame letteralmente morendo di fame non ha più nessun accesso al mare rimane trieste ma l'adriatico è in mano alla nostra flotta quella francese non si passa non arriva niente da fuori in austria e neanche in germania anche in germania non stanno bene in germania l'inverno 16 17 è rimasto nella memoria collettiva dei tedeschi come l'inverno delle rape perché quello c'era da mangiare cavoli e rape ma la germania è potente forte solida tira avanti l'austria che è un gradino sotto muore di fame ci sono le testimonianze degli ufficiali che vanno in licenza a vienna e dicono santo cielo che facce che ha la gente e i soldati in trincea non hanno da mangiare e noi attacchiamo e gli austriaci resistono nonostante tutto ecco il fatto che resistano così ostinatamente merita di essere spiegato ci sono almeno due motivi uno è che in realtà la prima guerra mondiale è una guerra che favorisce i difensori sapete non è sempre la stessa cosa dipende da che armi ci sono ci sono epoche in cui gli armamenti disponibili aiutano gli attaccanti pensate la seconda guerra mondiale con i carri armati che vanno avanti e sfondano tutto nella prima guerra mondiale è il contrario le armi nuove cosa sono la mitragliatrice e la mitragliatrice raddoppia la capacità dei difensori in una trincea tu hai 100 fucili a difendere 200 metri di fronte ma se hai anche una mitragliatrice è come se ne avessi il doppio le novità tecnologiche sono la mitragliatrice il filo spinato la trincea nella prima guerra mondiale attaccare vuol dire attaccare un nemico che sta magari a tre o quattrocento metri più in là però è in trincea non li vedi neanche tu anche sei in trincea quando è ora di attaccare esci devi attraversare di corsa quei tre quattrocento cinquecento metri che però sono pieni di filo spinato e intanto gli altri ti sparano allora nella prima guerra mondiale tutte le offensive costano carissime costano una marea di morti e di feriti e falliscono o ottengono minimi risultati ed è così anche sul nostro fronte però c'è anche un'altra motivazione ed è che gli austriaci a questa guerra contro gli italiani ci credono della guerra contro i russi agli ufficiali austriaci importa tutto sommato poco non c'è nessun odio particolare nei loro confronti e si sta combattendo nelle province più povere dell'impero la galizia di cui in realtà non importa niente a nessuno gli ufficiali austriaci scherzano chi perde la guerra si prende la galizia ma sul nostro fronte è un'altra cosa lì c'è trento c'è trieste soprattutto l'unico porto vero dell'impero e lì c'è un'altra questione c'è l'imperialismo italiano che si vuole affermare che chiaramente ha dichiarato fin dallo scoppio della guerra che noi vogliamo andare al brennero e vogliamo l'istria la dalmazia vogliamo allargarci nei balcani e le popolazioni locali questo lo sanno nel trentino noi attacchiamo poco o niente ma se avessimo attaccato ci trovavamo di fronte dei reggimenti di kaiser jäger tirolesi reclutati sul posto che sapevano benissimo che stavano combattendo per difendere le loro case e sul lisonzo i reparti che resistono sapete l'esercito austriaco è un esercito dove si parlano dieci lingue ma sul lisonzo ci sono reparti sloveni croati i quali anche loro stanno combattendo perché dal loro punto di vista gorizia è una città loro trieste è una città loro l'istria è loro e non vogliono che gli italiani vengano di nuovo a comandare a casa loro come hanno fatto per tanti secoli al tempo dei veneziani quindi l'esercito austriaco morendo di fame inferiore di numero resiste disperatamente e noi si va avanti un pezzettino per volta però comunque si va avanti un pochino e nell'agosto del 17 l'undicesima battaglia del lisonzo è una vittoria per i criteri di allora una netta vittoria andiamo avanti sull'altipiano della bainsizza oltre gorizia andiamo avanti per 8 10 chilometri che per i criteri della prima guerra mondiale sembra una cosa enorme e l'agosto del 17 caporetto sarà il 24 ottobre in quell'agosto del 17 noi andiamo avanti sulla bainsizza poi lentamente come sempre l'offensiva si esaurisce le perdite sono troppe gli austriaci riescono ancora una volta a tappare il buco ma per l'ultima volta il comando austriaco si rende conto di aver finito tutto non c'è più un uomo da aggiungere perciò al comando austriaco mentre l'offensiva italiana dell'agosto è ancora in corso al comando austriaco ci si dice stavolta teniamo ancora ma se cadorna attacca un'altra volta quest'autunno è finita sfondano gli italiani vanno a trieste e se gli italiani vanno a trieste l'impero crolla e c'è troppo valore simbolico oltre che economico perciò i comandanti austriaci si dicono che bisogna assolutamente fare qualcosa non possiamo stare fermi a aspettare che cadorna attacchi un'altra volta e testardo come attaccherà di sicuro quest'autunno sembra che gli italiani non le finiscano mai le munizioni gli uomini perciò il comando austriaco si dice dobbiamo fare qualcosa noi dobbiamo attaccare noi li dobbiamo ributtare almeno un po indietro dobbiamo guadagnare un po di spazio un po di respiro dobbiamo attaccare noi ma non hanno assolutamente i mezzi per farlo voi capite in quelle condizioni con la trincea la mitragliatrice il filo spinato poi parleremo dei cannoni e degli aerei in quelle condizioni per attaccare tu bisogna che almeno nel punto che hai scelto per attaccare tu sia più forte almeno in un punto devi essere il doppio il triplo altrimenti non passerai mai e gli austriaci non hanno assolutamente i mezzi per farlo però hanno il fratello maggiore i tedeschi la germania del reich come dicevano loro del secondo reich la germania del kaiser guglielmo hanno gli alleati e decidono con grande fatica e imbarazzo di andare a chiedere aiuto agli alleati ai tedeschi con grande fatica e imbarazzo uno si immagina a volte ingenuamente che in guerra gli alleati si vogliono bene fra loro e siano contenti di aiutarsi come in politica no ecco non è vero niente gli alleati si odiano sono costretti a stare insieme ma hanno interessi divergenti e sarebbero contenti di vedere l'altro che crolla purché loro non fossero coinvolti per di più l'alleanza con i tedeschi è una cosa dura da mandare giù i tedeschi sono moderni forti ricchi potenti e guardano gli austriaci dall'alto in basso questa è una delle cose più imbarazzanti a dire la verità perché perché noi per gli austriaci siamo allo stesso livello capite siamo due paesi sospesi fra la modernità e l'arretratezza sia noi sia l'austria abbiamo un'industria un'industria pesante noi abbiamo torino milano genova loro hanno vienna praga budapest però poi entrambi i paesi hanno un grande entroterra contadino poverissimo arretrato tassi di analfabetismo molto più alti rispetto alla francia la germania l'inghilterra siamo paesi mezzo moderni e mezzo arretrati le due più deboli fra le grandi potenze per noi l'esercito austriaco è un avversario formidabile abbiamo battuto il naso 11 volte nonostante tutto e anche noi per gli austriaci siamo un avversario formidabile gli austriaci hanno un gran rispetto dell'esercito italiano della sua artiglieria dell'ostinazione di cadorna che continua a attaccare siamo allo stesso livello invece i tedeschi quando guardano gli austriaci dicono e lo dicono e lo scrivono se no non potrei raccontarvelo i generali tedeschi dell'esercito austriaco pensano questi primitivi balcanici pasticcioni arretrati fatalisti come dei turchi non sanno organizzare niente sono sempre lì che dicono vabbè speriamo che vada bene e gli austriaci lo sanno che i tedeschi pensano questo di loro e gli austriaci dei tedeschi pensano questi padri eterni sanno tutto loro padroni del mondo che odio dover andare d'accordo con loro peggio ancora dover andare col cappello in mano a chiedere per piacere dateci una mano però alla fine di agosto gli austriaci sono talmente mal ridotti che vanno a chiedere aiuto ai tedeschi l'altra cosa imbarazzante è la reazione dei generali tedeschi perché i generali tedeschi agli austriaci rispondono perché dovremmo sprecare delle risorse per un fronte insignificante come quello italiano la guerra in italia non ha nessuna importanza vada come vada noi abbiamo cose più importanti da fare gli austriaci insistono forse non avete capito guardate che se quelli prendono trieste nell'impero scoppia la rivoluzione crolla tutto questo punto i tedeschi ci ragionano un po' e il comandante in capo dell'esercito tedesco il feldmaresciallo von hindenburg che è molto vecchio si ricorda che quando lui era bambino un'altra grande guerra la guerra di crimea era finita per la caduta di un porto sebastopoli gli alleati avevano preso sebastopoli la russia si era arresa e hindenburg dice vabbè abbiamo capito con l'austria rischia di succedere la stessa cosa trieste è troppo importante dobbiamo aiutarli detto fra parentesi giusto per il piacere di affrescare il personaggio con due pennellate il feldmaresciallo von hindenburg era già molto vecchio abbastanza vecchio da ricordarsi la guerra di crimea vivrà ancora molto a lungo nella germania fra le due guerre diventerà presidente della repubblica di weimar pur essendo un monarchico convinto nostalgico del kaiser ma lo fanno presidente lo stesso i tedeschi e farà ancora in tempo nel 1934 a nominare cancelliere del reich un signore coi baffetti che ha appena vinto le elezioni ma torniamo al 1917 hindenburg è il suo principale collaboratore il grande stratega dell'esercito tedesco ludendorf si dicono va bene bisogna dare una mano a questi sciagurati austriaci un po' di forze sul momento le possiamo forse risparmiare però bisogna vedere se questa cosa ha un senso gli austriaci sono arrivati con un piano hanno studiato il fronte e hanno visto dove sarebbe il punto giusto per attaccare qui voi dovete immaginare questo fronte che lungo l'isonzo scende dalle montagne verso il mare verso l'adriatico davanti a trieste tutto l'esercito italiano è ammassato in basso sul mare sul carso perché vogliamo andare a trieste e si attacca lì sul carso dove c'è spazio più su e tutta montagna non vale la pena di ammassare grandi forze non ci interessa spingere in lì all'inizio della guerra abbiamo spinto un po' sì nei primi giorni di guerra gli alpini hanno preso una montagna il monte nero si è fatta anche una canzone talmente c'era entusiasmo per questa presa del monte nero poi ci si è fermati tanto lì non si va da nessuna parte le nostre truppe sono tutte più giù lì c'è un velo di truppe giusto per tenere la linea delle trincee tanto che paura c'è gli austriaci mica ci attaccano attacchiamo sempre noi lì sotto il monte nero c'è anche un paesino sloveno all'epoca era un paesino sloveno che si chiamava kobarid e anche adesso è un paesino sloveno che si chiama kobarid solo che il 24 maggio i bersaglieri ci sono entrati e gli hanno cambiato nome si è chiamato caporetto dopodiché si è aperta una scuoletta di italiano per insegnare ai figli dei montanari sloveni che adesso sono dei cittadini sudditi italiani e noi siamo lì e siamo lì per restare tanto la guerra poi la vinceremo ma in quel settore lì però non abbiamo quasi niente poco perché tanto gli austriaci hanno visto tutto questo arrivano dai tedeschi gli dicono guardate lì lo vedete caporetto caporetto sì c'è il monte nero davanti pieno di alpini ma ci sono dei passaggi per attaccare sui lati non andiamo ad attaccare il monte nero passiamo giù nel fondo valle se uno arriva a caporetto la vedete la carta geografica si incrociano lì le strade le vallate e subito lì a sud di caporetto si apre una bellissima valle che si chiama la valna tisone che scende giù tranquilla tranquilla in un attimo sei nella pianura italiana in un attimo sei a cividale in due giorni sei a udine dove c'è il comando supremo di cadorna che agli italiani sembra il posto più sicuro del mondo anche caporetto in realtà gli sembra il posto più sicuro del mondo se si arriva lì in un attimo scendi in pianura li prendi alle spalle e gli austriaci dicono quando noi sfondiamo lì cadorna vedrà che il grosso del suo esercito ammassato più a sud rischia di essere preso alle spalle perciò dovrà ritirarsi dovranno tornare un po indietro gli italiani tedeschi dicono quindi voi vorreste farli tornare un pochino indietro sì dicono gli austriaci almeno fino al vecchio confine cioè quel territorio che loro hanno preso dopo il 24 maggio lì sullo spartiacque tedeschi dicono se ci muoviamo noi non lo facciamo per così poco se veniamo noi gli italiani li buttiamo così indietro che non potranno fermarsi finché non incontrano almeno un grande fiume per ripararsi dietro qual è il primo grande fiume che si trova vai 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 ecco il tagliamento se veniamo noi li spingiamo almeno fino fino al tagliamento i generali austriaci rispondono non ci arriverete mai 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 i tedeschi dicono vediamo però prima dobbiamo dare un'occhiata non abbiamo ancora promesso niente dobbiamo vedere un po com'è davvero questo fronte di cui ci parlate per cui chiamano un generale tedesco esperto nella guerra in montagna un bavarese il generale Kraft von Delmenzingen e lo mandano a dare un'occhiata il generale Kraft per qualche giorno fa il giro delle trincee nel settore di Caporetto con gli ufficiali austriaci che gli fan vedere tutto con un berretto austriaco in testa per evitare che se lo vedono gli italiani si accorgano di qualcosa e poi telefona e dice è molto difficile ma si può fare gli italiani hanno delle posizioni fortissime montagne piene di cannoni posizioni che sembrano imprendibili però ci sono gli italiani tutto sommato dice il generale Kraft secondo me noi tedeschi gli austriaci no ma noi tedeschi ce la possiamo fare e qui comincia quella che a me devo dire è sembrata la fase più straordinaria di tutta questa storia cioè la pianificazione di una offensiva da parte dello stato maggiore tedesco perché va bene tu hai preso la decisione politica voi capite in guerra ti vengono tante belle idee vorresti fare un sacco di belle cose non puoi fare quasi niente perché i mezzi sono quelli che sono se fai una cosa non ne fai altre perciò la decisione di allocare delle risorse al fronte italiano è una decisione politica presa al massimo livello il comando supremo il kaiser va bene lo facciamo cosa gli diamo agli austriaci sei divisioni è quello che possiamo risparmiare sei divisioni vuol dire centocinquantamila uomini occhio e croce gli austriaci dicono non potreste darcene otto i tedeschi dicono no ne abbiamo sei vedrete che basteranno va bene a questo punto l'hai detto e hai anche individuato le sei divisioni che in quel momento sono a riposo e che sono anche magari più esperte nella guerra in montagna quindi hai già deciso quali divisioni andranno lì dopodiché cosa si fa e da berlino telefonano a un generale bravo che se ne sta in austria in francia a comandare un'armata un prussiano il generale von bellow gli dicono caro vieni a berlino che dobbiamo parlarti generale von bellow va a berlino all'immenso palazzone del grande stato maggiore che oggi non esiste più è stato raso al suolo dai bombardamenti americani durante la seconda guerra mondiale ma più o meno allo stesso posto c'è la cancelleria della merkel e al palazzo del grande stato maggiore che i militari tedeschi in gergo chiamano di grosse bude la gran baracca va a sentire cosa gli vogliono dire e gli dicono guarda noi abbiamo deciso di attaccare l'italia per dare una mano agli austriaci organizzeremo una nuova armata sei divisioni tu la comandi ti abbiamo assegnato un capo di stato maggiore il generale kraft von del menzingen che è già stato lì a vedere un esperto di cannoni un esperto di aeroplani un esperto di treni un esperto di carburante incontrati con loro fateci il progetto di questa offensiva siamo i primi di settembre il generale von bellow dice ma entro quando dobbiamo fare subito diciamo al più tardi a metà ottobre perché poi lì nevica non ha idea di che posti sono due giorni dopo il generale von bellow è in un albergo di vienna con i suoi collaboratori spianano le mappe sul tavolo e cominciano a ragionare dobbiamo portare lì sei divisioni portare lì cosa vuol dire ci sono delle stazioni le ferrovie arriva lì vicino neanche per idea le stazioni più vicine sì ci sono delle stazioncine villa klagenfurt lubiana sono le più vicine da lì le truppe una volta scese dai treni dovranno ancora fare una settimana di marcia in montagna solo per arrivare sulle posizioni di partenza due sole strade due passi a mille metri salir su scendere giù una settimana ci vorrà intanto portiamole a quelle tre stazioncine sei divisioni che vengono una in romania una sui carpazzi una in ucraina una in polonia due sono in francia dai quattro angoli d'europa bisogna portarle in quelle tre stazioncine in treno ovviamente centocinquantamila uomini cinquemila cannoni solo per tirare poi i cannoni trentamila cavalli due milioni di proiettili di artiglieria ognuno pesa mezzo quintale in media e tutta questa roba bisogna portarla in treno dai quattro angoli d'europa a quelle tre stazioncine nelle prossime settimane perciò è uno stato maggiore tedesco ci si mette lì e si studia non per niente c'è un esperto di treni si fa all'orario ferroviario per questi spostamenti sapete quanti treni ci vogliono per portare tutta quella roba in quelle tre stazioncine di provincia 2400 treni 100.000 vagoni ferroviari da caricare e scaricare e loro fanno nel giro di qualche giorno l'orario ferroviario di 2400 treni che arriveranno a portare tutta quella gente tutta quella roba in quelle tre stazioncine e gli orari li fanno i tedeschi e i treni si mettono in movimento all'ora giusta e cominciano via via ad arrivare a scaricare le truppe naturalmente gli orari li hanno fatti i tedeschi ma i treni sono austriaci quindi cominciano subito le grane ogni tanto si perde un treno a un certo punto anche gli austriaci collaborano anche loro stanno facendo venire usando ancora altri treni anche loro truppe cannoni a un certo punto telefonano gli austriaci purtroppo ci sono due batterie di cannoni super pesanti indispensabili per l'offensiva non sappiamo dove sono finite tocca telefonare a tutte le stazioni dell'impero poi erano finite in transilvania tornano indietro i tedeschi prendono nota mi sa che per metà ottobre non ce la facciamo però vabbè intanto ci proviamo la roba arriva e poi e poi tutte queste truppe sbarcano in queste stazioncine passano qualche giorno a riposarsi ricevono un addestramento speciale per la guerra in montagna nuove armi perché sono tedeschi non si dimentica niente nei preparativi quando sono pronti si mettono in marcia quella famosa settimana di marcia in montagna proprio l'ultima settimana prima di scatenare l'attacco siccome ci sono solo due strade anche il movimento sulle strade è pianificato come se fosse una ferrovia lungo le strade ci sono gli ufficiali tedeschi con le lampade gli orari i battaglioni partono a una certa ora arrivano a una certa ora solo in questo modo si riesce a far arrivare quasi tutto naturalmente questa è la cosa vista dallo stato maggiore che se ne sta nei suoi uffici le truppe che marciano marciano per una settimana in montagna ha dimenticavo solo di notte tutta la marcia viene fatta solo di notte perché di giorno gli italiani volano e non vogliamo che vedano quello che sta arrivando questa marcia di notte noi abbiamo anche dei resoconti dei reparti che l'hanno fatta una marcia spaventosa con i soldati che maledicono i comandi si chiedono chi è il pazzo che li ha mandati su in alta montagna di notte c'è già la neve in alto è una marcia terrificante in una strada tutta piena di camion sfasciati perché i camion continuamente escono di strada vanno giù nel burrone i cavalli i muli vanno giù nel burrone gli uomini vanno giù gridano non li sente nessuno c'è un tale rumore dei torrenti della tormenta tuttavia arriva quasi tutto sapete che la guerra è quella situazione in cui se tu devi portare 100 uomini in un certo posto e ne arrivano 99 uno è morto è andata benissimo perfettamente non c'è il minimo problema arrivano vorrebbero attaccare il 15 ottobre all'inizio poi hanno spostato in una settimana 22 ottobre giorno prima gli austriaci telefonano non siamo ancora pronti non sono arrivati i proiettili a gas per l'artiglieria a questo punto i tedeschi mandano un generale al comando austriaco a vedere questo torna e dice non vi immaginate come lavorano quelli hanno finito la benzina tedeschi prestano la benzina agli austriaci gli austrici dicono però ancora due giorni ci vogliono va bene 24 ottobre ma non oltre il 24 ottobre si comincia è tutto pronto sei divisioni tedesche parecchie divisioni austriache 300.000 uomini 5.000 cannoni i piani sono precisi comincia tutto con un bombardamento a gas alle due di notte del 24 ottobre quattro ore di bombardamento a gas poi bombardamento esplosivo poche ore di bombardamento veloce veloce e poi all'attacco ogni reparto i suoi ordini i suoi orari la pianificazione vuol dire questo che fino a quel momento finché potevi devi aver pensato a tutto poi quando comincia la battaglia il discorso cambia non è che ti illudi di pianificarla non sai cosa succederà un esercito vero come quello tedesco sa benissimo che a quel punto non si sa cosa succede dobbiamo essere pronti a tutto la pianificazione vale fino all'ultimo minuto quindi sono pronti ad attaccare quella notte del 24 ottobre hanno fatto tutto il più possibile in segreto gli ufficiali tedeschi che andavano in ricognizione in trincea si travestivano da austriaci le truppe marciavano solo di notte hanno fatto disinformazione trasmesso notizie su reparti tedeschi nel trentino hanno fatto di tutto per tenere segreta questa cosa e i nostri comandi sanno tutto noi sappiamo assolutamente tutto ogni dettaglio gli orari i piani d'attacco tutto e sappiamo tutto per due motivi almeno voi capite una roba del genere in realtà è un'illusione tenere la nascosta centinaia di migliaia di uomini coinvolti le ferrovie dell'intero impero come fai a tenerlo nascosto i soldati austriaci in trincea per primi anche se a loro nessuno ha detto niente ma sono i primi che han capito tutto sapete che è un fenomeno che è stato riscontrato a partire proprio dalla prima guerra mondiale i soldati sanno sempre tutto misteriosamente ci sono i telefonisti cuochi camerieri della mensa ufficiali sentono ecco i soldati sanno tutto i soldati austriaci lo sanno benissimo che presto li manderanno all'attacco e che sarà una cosa grossa come fanno a saperlo beh c'è un artigliere austriaco alla sua batteria arriva un suo compare vicino di casa a praga e gli dice sai che qua vicino è arrivata una batteria di cannoni tedeschi tedeschi ma sei sicuro sì sì ci ho parlato sono tedeschi a quel punto la prima reazione dei soldati austriaci è di andare dai tedeschi a mendicare qualcosa da mangiare perché i tedeschi stanno bene e gli austriaci muoiono di fame poi appunto nel rancio dei soldati austriaci a un certo punto compare una fettina di speck 20 grammi di pancetta mesi che non si vedeva mesi di patate cavoli e rape arriva la pancetta vuol dire qualcosa dicono i soldati poi distribuiscono gli elmetti d'acciaio l'austria è povera li distribuiva col contagocce adesso tutti quei treni vagonate di elmetti d'acciaio alle truppe in trincea e poi distribuiscono la cartolina verde e quello è sempre il segnale che sta per cominciare una battaglia la cartolina verde è la cartolina in franchigia dell'esercito austriaco andate a vedere si vede su internet ci sono le immagini volendo è la cartolina che i soldati possono spedire a casa con la posta militare ed è fatta per gli analfabeti per cui c'è scritta in nove lingue la stessa frase sono sano e va tutto bene e questo c'è scritto in tedesco in ungherese in polacco in rumeno in italiano in serbo croato in ucraino eccetera quando la distribuiscono i soldati sanno qui ci mandano all'attacco e tutto quello che sanno i soldati austriaci lo sanno i nostri primo perché ci sono le intercettazioni telefoniche ci sono già degli apparecchietti che piantati nel terreno permettono di sentire cosa dicono quegli altri al telefono nelle trincee 100 200 300 metri più in là e dietro ci sono degli uffici con degli ufficiali che sanno le lingue che stanno lì 24 ore su 24 a trascrivere tutto quello che viene detto al telefono dall'altra parte questo lo sanno tutti lo facciamo noi lo fanno loro tanto che sia i nostri sia gli austriaci quando parlano al telefono se possono parlano in dialetto nella speranza che quelli dall'altra parte non capiscano di fatto si capisce tutto ed è dei primi di settembre che noi intercettiamo ufficiali austriaci che dicono hai saputo che si parla l'offensiva hai saputo che vengono i tedeschi hai saputo che sarà a metà ottobre hai saputo che sarà a caporetto ecco e poi ci sono i disertori i disertori sono quelli che non ne possono più e una bella notte decidono che loro hanno finito per loro la guerra è finita meglio cadere prigionieri perciò se ne vanno di nascosto attraversano la terra di nessuno e vanno ad arrendersi i disertori ce ne è un'infinità nella prima guerra mondiale tutti i giorni continuamente disertano soldati capite com'è ci sono milioni di uomini in trincea che fanno una vita da cani che mangiano malissimo e che rischiano la pelle tutti i giorni perciò tutte le notti c'è gente che scappa disertano i nostri e disertano gli austriaci ma gli austriaci disertano più dei nostri primo perché i nostri mangiano male ma loro crepano di fame e secondo perché gli austriaci non sono tutti sul tirolesi o sloveni che nonostante tutto la guerra contro l'italia l'han capita e la fanno perché sanno benissimo che se si perde verranno gli italiani a comandare a casa loro come infatti succederà puntualmente alla fine della guerra ma ci sono anche nazionalità a cui della guerra sull'isonzo non importa proprio niente rumeni cecoslovacchi polacchi a questi non importa niente sono nazionalità dove molti in realtà sperano di perderla la guerra ecco l'esercito austriaco ha combattuto per quattro anni la guerra con un esercito dove una parte degli ufficiali dei soldati sperava di perderla così avremo la cecoslovacchia indipendente avremo la serbia che si unisce alla croazia faremo la jugoslavia e perciò un sacco di gente anche ufficiali che appartengono a quelle nazionalità disertano negli ultimi giorni prima di caporetto arrivano ufficiali austriaci di nazionalità rumena polacca cieca e arrivano con gli ordini dei loro reparti a che ora comincia il bombardamento a che ora comincia l'attacco i nostri sanno tutto tant'è vero che da due giorni è arrivato a tutti i reparti l'ordine la notte del 24 ottobre arriva l'attacco comincia alle due col bombardamento a gas perciò all'una e mezza tutte le truppe sveglie e con la maschera antigas addosso e cadorna che all'inizio non ci credeva tanto a questa storia che volevano attaccarci perché gli sembrava così folle sono così deboli gli austriaci va bene vengono i tedeschi ma che sarà mai noi non l'abbiamo mai sperimentati noi ci illudiamo a quel punto di essere così forti noi che i tedeschi non ci faranno nessuna differenza i nostri generali lo dicono se lo dicono fra loro e lo dicono alle truppe ragazzi verranno i tedeschi va bene non crederete mica che sia meglio degli austriaci verranno i tedeschi benissimo faremo dei nuovi prigionieri che non avevamo ancora e li manderemo a milano a farli vedere alla gente i prigionieri tedeschi e poi cadorna comunque si dice ma figurati se questi attaccano a ottobre dopo metà ottobre nevica già cadorna fino agli ultimi giorni nonostante i rapporti che arrivano e che dicono tutte le cose che vi ho raccontato cadorna continua a crederci solo a metà ancora negli ultimi giorni lo sentono degli ufficiali che dice assunti te vale però comunque cadorna è un professionista poi se avremo tempo parleremo un po di lui ma non avremo tempo ma insomma è un professionista pieno di difetti caratteriali con delle arretratezze ma anche con delle modernità sue un uomo intelligente un uomo di prima qualità in realtà cadorna anche se ci crede poco il suo mestiere lo fa attaccheranno in quel settore di caporetto e noi mettiamoci più truppe ce n'erano poche è vero all'inizio ma quando scatta l'attacco noi ne abbiamo molte di più di truppe perché cadorna ha preso un'infinità di brigate che stavano a riposo e le ha trasferite in quel settore lì perciò cadorna è tranquillo si romperanno i denti e invece come sapete succede tutto il contrario i tedeschi sfondano dove attaccano gli austriaci quasi dappertutto li fermiamo ma dove attaccano i tedeschi passano come nel burro le nostre linee davanti ai tedeschi crollano le riserve ammassate dietro si spappolano nel giro di due giorni è chiaro che questi scenderanno in pianura nel giro di tre giorni cadorna deve evacuare udine e trasferire il comando supremo a padova nel giro di tre giorni cadorna deve dare ordine all'intero esercito di ritirarsi è la decisione più difficile della sua vita chiaramente però la deve prendere perché se restiamo dove siamo sul carso questi ci prendono alle spalle allora sì che è finita bisogna salvare l'esercito già quest'ordine di ritirarsi noi facciamo fatica a immaginare cosa ha voluto dire è uno shock da cui l'esercito italiano per un momento non riesce a riprendersi capite cosa vuol dire ritirarsi ritirarsi vuol dire i tedeschi avevano calcolato giusto ritirarsi fino al tagliamento perché se cominciamo andare indietro con delle truppe che si ritirano inseguite dal nemico vittorioso e non è che ti fermi dove vuoi fai dietro fronte combatti prima di che un esercito che si sta ritirando possa di nuovo schierarsi e trovare il coraggio di combattere devi avere un fortissimo appoggio nel terreno ci vuole un grande fiume niente da fare quindi l'ordine di ritirata dato il terzo giorno da cadorna è ritirata al tagliamento questo vuol dire che l'esercito italiano abbandona tutto il terreno che ha conquistato in due anni e mezzo di guerra e che è costato mezzo milione di morti parlo proprio di morti stavolta niente abbandoniamo tutto non solo torniamo ancora più indietro in italia io ho trovato il diario di un ufficiale che non era coinvolto nella zona di caporetto perché l'attacco a caporetto coinvolge solo una parte abbastanza piccola del nostro esercito il grosso è più giù sul carso non sanno niente arriva all'improvviso un collega e dice non dirlo a nessuno ma sembra che ci sia l'ordine di ritirarsi oggi pomeriggio si parte dice ritirarsi ma fin dove non è che torniamo fino all'isonzo che sembrava già una cosa dice no no ritirata al tagliamento e l'ufficiale dice al collega ma il tagliamento è in italia e ci sono 100 chilometri diventi pazzo ecco il grosso dell'esercito italiano riceve quest'ordine come un fulmine a ciel sereno un ordine incomprensibile però bisogna ritirarsi e quasi subito si vede che ci si ritira perché il nemico ha sfondato e sta arrivando allora la battaglia di caporetto è qualche giorno di un giorno o due di battaglia su quelle posizioni che vengono sfondate e poi sono due settimane di ritirata inseguiti dal nemico fermandosi a combattere ogni volta che si può e perdendo quasi sempre questi scontri e poi di nuovo ritirarsi ed è lì che una battaglia perduta diventa una catastrofe nazionale caporetto adesso provo a darvi un'idea dell'entità della catastrofe di caporetto non è perché abbiamo perduto 40.000 morti e feriti perché 40.000 morti e feriti li perdevamo in una qualunque delle nostre offensive sull'isonza era una cosa normalissima i comandi non facevano caldo né freddo però abbiamo perso 300.000 prigionieri nel corso della ritirata capite man mano quegli altri arrivano e catturano gente che non è riuscita a scappare abbastanza in fretta alla fine avranno catturato 300.000 prigionieri ora 300.000 prigionieri già un'altra cifra c'è uno zero in più l'uno per cento della popolazione italiana un italiano su cento è caduto prigioniero a caporetto tutto compreso donne bambini ecco uno su cento di questi 300.000 prigionieri oltretutto molti non torneranno a casa perché la prigionia nella prima guerra mondiale è un'esperienza spaventosa specialmente la prigionia in un paese che sta morendo di fame come l'Austria i lager che chiamano già così è uno dei più famosi è un lager che sarà poi ancora più famoso col nazismo mauthausen i lager sono già dei posti dove si muore anche se non ci sono le s e se non ci sono le camera gas nessuno vuole che i prigionieri muoiano però non c'è niente da mangiare muoiono di fame i civili austriaci figuratevi cosa c'è per i prigionieri italiani e quindi i prigionieri italiani muoiono di fame di tifo di spagnola nel 18 non solo il nostro esercito ha perso 40.000 morti e feriti e pazienza 300.000 prigionieri e quelle già una bella botta ma il fatto è che di quel milione di uomini che si stanno ritirando più di metà non sono più soldati sono sbandati sbandati è un termine che entra nell'uso dei giornalisti in quel momento non se ne fa non si parla d'altro gli sbandati sono i soldati che si stanno ritirando verso casa e hanno buttato via il fucile e non ubbidiscono più agli ufficiali camminano perché l'idea è torniamo a casa la guerra è finita l'abbiamo persa e chi se ne frega se l'abbiamo persa l'importante è che è finita la maggioranza dei soldati italiani in quelle settimane è convinta che la guerra è finita e molti osservatori giornalisti ufficiali politici notano questi sono quasi contenti sono spensierati tranquilli andata male pazienza però si torna a casa cantano addio mia bella dio la pace la faccio io quando sono un po' incattiviti passando vicino agli ufficiali li guardano in faccia gli dicono è finita la camorra perché per i soldati in trincea la guerra è stato quello la camorra il cuciniere che dava le razioni più abbondanti ai suoi amici gli imboscati che non rischiavano mai la pelle gli amici del comandante che prende ecco e noi a crepare in trincea la camorra i carabinieri che mangiano meglio degli altri perché aiutano i generali a fucilare la gente la camorra adesso è finita la camorra quindi questo esercito in quelle settimane sembra che si stia sfasciando e questo esercito si ritira in un paesaggio terrificante dove brucia tutto brucia tutto perché noi diamo fuoco a tutto l'ordine è dar fuoco a tutto per non lasciare niente al nemico il primo giorno di ritirata i nostri soldati che in trincea mangiavano male scoprono che subito dietro la nostra previdente burocrazia ha allestito degli immensi depositi pieni di roba milioni di scatolette di carne in scatola americana sono i nostri alleati sono entrati in guerra ci mandano la roba scatolette di salmone gli americani producevano una marea di salmone i nostri soldati in trincea mangiavano salmone o meglio restava nei magazzini ad aspettare barili di liquore fiaschi di vino uniformi nuove biancheria scarpe tutto c'è tutto e l'ordine è dar fuoco a tutto i soldati da un fuoco a tutto però prima entrano si riempiono lo zaino si riempiono la pancia sfondano le botti di liquore vanno in giro con i fiaschi appesi si ubriacano persi la maggior parte di loro faranno tutta la ritirata ubriachi entri nei magazzini prendi tutto e dai fuoco dai fuoco ai magazzini dai fuoco ai paesi alle ferrovie le stazioni le locomotive ordini superiori si brucia tutto e e quando sono finiti i magazzini militari comincia a entrare nei negozi nei negozi privati nelle case i soldati in ritirata saccheggiano tutto udine pordenone le cascine le campagne dappertutto i soldati marciano continuamente con la pancia piena per la prima volta da tanto tempo ubriachi entrando a prendere quello che vogliono impunemente quasi sempre impunemente perché poi è una lotteria la cosa più pazzesca è che se sei molto sfortunato invece giri l'angolo e lì c'è un picchetto di carabinieri con un ufficiale impazzito che perquisisce quelli che passano e se tu sei entrato in una casa hai trovato in un cassetto delle calze da donna te le sei messe in tasca per portarle all'amorosa te le trovano ti sbattono al muro ti fucilano ma la stragrande maggioranza non incontra i carabinieri e continua a marciare così ubriachi cantando e non in mezzo al fuoco che brucia tutto dappertutto ci sono gli immensi parchi di buoi che la sussistenza ha preparato per dar da mangiare alla gente adesso bisogna liquidarli non lasciare niente ai tedeschi farli fuori tutti ma non c'è mica tempo di sparare in testa ogni bue no no sono tutti chiusi nei recinti si cosparge di benzina si dà fuoco con le bestie vive e si continua a marciare in mezzo a tutto questo e in mezzo ai soldati i civili perché i civili non restano a casa aspettare il nemico a dire il vero all'inizio i prefetti hanno avuto ordine di affiggere dei bellissimi manifesti che dicevano niente panico la situazione è sotto controllo ma la gente ha visto che i signori quelli che sono bene informati caricavano la roba in carrozza o in macchina siamo sospesi no fra l'ottocento e la modernità c'è chi ha già la fiat e c'è chi ha ancora la carrozza a cavalli i signori caricavano la roba e andavano via allora anche la gente comincia andare via con gran fatica pensate la situazione siamo a fine ottobre i contadini hanno i raccolti nei magazzini le cantine piene il bestiame grasso tutta la roba pronta per l'inverno e bisogna andare via in tutte le famiglie si discute il nonno dice no no io resto e molti restano e molti vanno via mezzo milione di profughi che se ne vanno lungo questa strada verso il tagliamento mescolati alle truppe diluvia continuamente questa gente non ha niente da mangiare marciano 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 molti ufficiali io ho trovato più di uno che nei loro nei loro libri poi ricordano la cosa che mi ha colpito di più durante la ritirata la contadina scalza a piedi che camminava da non so quanti giorni inebetita col neonato al seno e il neonato era morto e lei non se n'era ancora neanche accorta piove continuamente per fortuna perché quando non piove scendono gli aerei tedeschi a mitragliare e queste colonne miste disbandati di soldati che invece hanno ancora il fucile si fermano a combattere quelli che obbediscono ancora agli ordini si fermano a combattere sono quelli che poi vengono fatti prigionieri e finiscono nei lager gli altri scappano tutto questo per due settimane verso il tagliamento prima e i ponti sul tagliamento sono pochissimi e c'è una folla immensa che arriva a un certo punto non si va più avanti a un certo punto tutte le strade sono bloccate allora l'ordine via tutti i veicoli i reparti militari fino a quel punto si sono portati i loro camion i loro cannoni costosissimi tirandoli a mano certe volte adesso non si va più avanti l'ordine via tutto via tutto nei fossi ai lati delle strade i cannoni i camion stracarichi di roba i carretti a cavalli ce ne migliaia stracarichi di roba gli equipaggiamenti degli ospedali medicinali le casse dei reggimenti gli archivi le scartoffie infinite le scartoffie tutto via qualche giorno dopo arriveranno i corrispondenti dei giornali tedeschi al seguito delle loro truppe e scriveranno sui loro giornali per le strade del veneto sono sparsi miliardi di roba miliardi in un paese poverissimo come l'italia butti via tutto i camion i carretti a cavalli anche qui ti fermi a staccare i cavalli neanche per idea li lasci lì a crepare i tedeschi arriveranno due o tre giorni dopo e troveranno chilometri e chilometri di strade con intorno migliaia di carretti con attaccati i cavalli che sono morti di fame rosicchiando i finimenti e si marcia in mezzo a tutto questo e quando c'è un cavallo morto i soldati si fermano e con la baionetta tirano via un pezzo di carne almeno c'è qualcosa da mangiare un cavallo morto molti dicono anche un cavallo vivo naturalmente e si arriva ai ponti sul tagliamento e lì davvero non si va più avanti i ponti sono stracarichi di gente militari civili e non su non si va né avanti né indietro e a un certo punto dall'altra parte dei ponti c'è un capitano del genio con un megafono che dice fra mezz'ora il ponte salta lo facciamo saltare noi non lasciamo mica i tedeschi che stanno arrivando noi ci dobbiamo difendere dietro il tagliamento fra un quarto d'ora il ponte salta fra cinque minuti fra due minuti e la gente è lì e non si va né avanti né indietro poi i ponti sul tagliamento saltano tutti stracarichi di gente soldati civili donne bambini saltano tutti e dietro il tagliamento si tira un respiro di sollievo forse qui ci fermiamo poi invece arriva la notizia che i tedeschi più a nord hanno passato anche il tagliamento e quindi bisogna ricominciare andare indietro e finalmente ci si ferma il piave dietro il piave i tedeschi quando arrivano sono talmente senza fiato talmente stanchi di correre dietro e combattere catturare prigionieri e rimpinzarsi perché tutti i tedeschi gli austriaci dappertutto divorano tutto quello che trovano ammazzano i maiali rimasti se li mangiano crudi molti contadini raccontano al parroco c'è un tedesco morto in cantina è venuto lì ha sfondato le botti si è ubriacato e affogato nel vino arrivati al piave i tedeschi non ce la fanno più si fermano noi per il rotto della cuffia riusciamo a tenere la rotta di caporetto è finita abbiamo perso 40.000 morti e feriti 300.000 prigionieri gli sbandati a questo punto lì si rimedia un po perché gli sbandati si accorgono che la guerra non è finita che ci sono ancora gli ufficiali che ci sono ancora i carabinieri e quindi pian piano gli sbandati che sono stati rinchiusi in enormi campi di concentramento pian piano vengono rimessi in divisa e l'esercito pian piano si riforma ma quei 300.000 sono nei lager a crepare di fame ci sono 500.000 profughi civili che il governo fino alla fine della guerra dovrà mantenere e che riesce con una certa fatica distribuendoli in tutta italia ogni comune ne prende un po e poi ci sono quelli che sono rimasti là perché una parte dei civili sono rimasti alla fine quelli che non sono riusciti a passare il tagliamento quelli che hanno deciso di non scappare un pezzo d'italia tutto il friuli italiano e un pezzo di veneto fino al piave rimane per un anno sotto occupazione nemica cioè sotto occupazione di un esercito abbrutito da tre anni di guerra che odia gli italiani e che crepa di fame potete immaginare cos'è stato quell'anno di occupazione i tassi di mortalità della popolazione rimasta sul posto sono pazzeschi tra la fame le malattie gli stupri abbiamo molti diari dei parroci che raccontano quello che succede nei loro paesi con i tedeschi e gli austriaci che portano via tutto quello che c'è da mangiare tutto le campane dei campanili tirate giù per fare cannoni e insomma in questo senso come vi dicevo che caporetto non è soltanto una battaglia perduta ma è una tragedia nazionale è una catastrofe nazionale ed è una catastrofe nazionale che lascia molte cicatrici difficili da chiudere ecco concludiamo con questo come in ogni catastrofe nazionale ovviamente si scatena subito la caccia al colpevole di chi è la colpa c'è la testimonianza di un prete amico del comando supremo che insieme con il famoso padre gemelli che poi sarà il fondatore della cattolica e una macchina carica di suore stava scappando da udine sede del comando supremo sono in strada in mezzo ai profughi in mezzo agli sbandati in mezzo a questa folla che a piedi va nella stessa direzione della macchina coperto di fango vedono un deputato il deputato di tolmezzo onorevole gortani tolmezzo in quella zona cadrà in mano al nemico in quei giorni il deputato di tolmezzo riconoscendo questi preti influenti amici del comando supremo sulla macchina a terra coperto di fango gli grida adesso lo fucileremo il vostro cadorna quindi da un lato ci sono questi umori è colpa dei generali bisogna capire gli sbagli che hanno fatto licenziare punire l'umore nel paese è quello un capitano il capitano marpicati che poi sarà un importante gerarca fascista e quell'epoca uno studente universitario era in licenza da firenze torna al fronte poi la prossima volta che torna a casa in licenza dopo caporetto la mamma gli dice ma è davvero un esercito così schifoso il nostro sui giornali nei dibattiti parlamentari i discorsi sono credevamo di avere un grande esercito e dei grandi generali in questo clima di sfiducia generalizzata appunto che colpe hanno i generali vogliamo saperlo è stata una grande tragedia nazionale cosa si fa in italia quando c'è una grande tragedia nazionale si nomina una commissione parlamentare di inchiesta e la commissione parlamentare di inchiesta fa il suo lavoro e inchioda molti generali le loro responsabilità cadorna ha fatto degli sbagli enormi altri anche siccome so che qualcuno di voi ha questa curiosità perché c'è sempre qualcuno che ci pensa e vi dirò sì è vero anche badoglio aveva delle responsabilità grosse e la commissione di inchiesta decide su di lui di lasciar perdere perché badoglio ha fatto carriera è un uomo indispensabile meglio non toccarlo non c'è niente di molto misterioso segreto sono cose che succedono tutti i giorni naturalmente però il punto è che i generali non ci stanno a dire sì è colpa nostra i generali non ci stanno affatto e cadorna il giorno stesso in cui ha dato l'ordine di ritirata sapendo benissimo che era l'ordine più pazzesco della sua vita e non volendo prendersi lui la colpa ha pubblicato un bollettino del comando supremo in cui diceva che lui era costretto a dare l'ordine di ritirata per colpa di reparti dell'esercito non tutti e dice di reparti dell'esercito che sono scappati vigliacamente o si sono arresi vergognosamente senza combattere questa cosa non è successa mai in quei termini anche se in realtà lo sfacelo dell'esercito a caporetto è stato immenso ma in quei termini non è mai successo davvero ma il mondo legge il bollettino di cadorna a dire il vero il governo a roma quando vede questo bollettino si mette le mani nei capelli cioè capite cosa vuol dire il nostro comandante supremo che accusa di viltà i nostri soldati non si può il bollettino viene censurato ma intanto è stato già trasmesso all'estero e tutto il mondo quindi si ricorderà se lo ricordano ancora adesso gli appassionati di storia della prima guerra mondiale in america in inghilterra in australia se uno gli dice caporetto di quasi quel posto dove quei vigliacchi degli italiani sono scappati quella lì è una cicatrice non più chiusa ma soprattutto il problema è che i militari messi sotto accusa si convincono che appunto la colpa è di tutti tranne loro è colpa dei soldati che sono vigliacchi ma i soldati sono vigliacchi perché il paese è marcio il paese è marcio perché pieno di di rossi di socialisti che fanno propaganda contro la guerra tutto questo marciume pacifista i deputati socialisti che parlano in parlamento dicendo la guerra deve finire che vergogna i generali si convincono che il paese è marcio che ha bisogno di un bel di una bel repulisti ecco diciamo e che è colpa dei politicanti della politica liberale del parlamento se è stata la cosa è degenerata fino a quel punto perciò caporetto è anche il momento in cui una parte della classe dirigente italiana i militari si convincono che il sistema è marcio che la democrazia parlamentare non funziona che il popolo italiano ci sono parecchie lettere di ufficiali in quel periodo che dicono mi spiace dirlo ma il popolo italiano ha bisogno di cent'anni di bastone e come sapete il bastone arriverà anche se non durerà cent'anni ma è quello il momento in cui molti militari e molti intellettuali di destra si convincono che l'italia deve cambiare strada e quando cambia strada effettivamente quella gente lì si convincerà che ha finalmente chiudo con questo il generale cadorna nel dopoguerra 1925 si scambia delle lettere col generale kraft von delmenzingen cosa meravigliosa è questa che alla fine della guerra i militari nemici i generali nemici cominciano a chiacchierare da bravi amici si raccontano le cose e cadorna nel 1925 al generale kraft von delmenzingen scrive il disastro di caporetto non sarebbe stato possibile se in italia ci fosse già stato il forte governo attuale il forte governo attuale nel 1925 e mussolini all'indomani del delitto matteotti e mussolini che ha appena fatto le leggi fascistissime e ha trasformato definitivamente il suo governo in dittatura cadorna applaude magari avessimo già avuto mussolini nel 1917 e questa appunto è un'altra cicatrice che non saprei dire se sia in qualche misura ancora aperta adesso ma certamente in quegli anni del dopo guerra in italia delle conseguenze le ha avute grazie sera a tutti allora questa sera concludiamo questa trilogia sulla prima guerra mondiale dell'italia raccontando l'ultimo anno della guerra da caporetto a vittorio veneto devo essere sincero fin da subito è una storia meno surreale rispetto a quella dell'entrata in guerra dell'italia e meno tragica rispetto alla storia di caporetto ormai siete qui tanto comunque è è un pezzo di storia d'italia che credo valga comunque la pena di esaminare un po più da vicino dopo caporetto dunque l'attacco austriaco e soprattutto tedesco è scattato il 24 ottobre del 1917 nel giro di due settimane quel che resta dell'esercito italiano è stato sbalzato indietro fino al piave tanto per capirci in una guerra in cui si misuravano a chilometri un chilometro per volta le avanzate vittoriose in una guerra dove l'undicesima battaglia del lisonzo che noi abbiamo vinto la battaglia della bainsizza ha portato l'esercito italiano a andare avanti di 8 10 chilometri e quegli 8 10 chilometri di avanzata hanno dato ai comandi austriaci la sensazione che la prossima volta crollava tutto i tedeschi a caporetto ci hanno ributtato indietro di 150 chilometri siamo in italia un pezzo d'italia è occupata le colonne di prigionieri italiani che marciano verso oriente incrociano le colonne dei tedeschi che vanno avanti la pancia piena perché si sono fermati a mangiare dappertutto entusiasti felici per la vittoria quando piove con gli ombrelli aperti perché le colonne tedesche saccheggiano gli ombrelli nelle case e per un po' marciano riparandosi con l'ombrello fino a quando i loro comandi non decidono che non è una cosa adatta a dei veri uomini e quindi lo proibiscono i tedeschi incrociano le colonne dei nostri prigionieri e scherzando gli dicono a Milano a Milano stiamo andando a Milano ogni tanto qualche ufficiale italiano prigioniero si trova a fare due chiacchiere con un ufficiale austriaco che parla italiano un ufficiale austriaco che magari è di trieste e che gli dice anche questo ho trovato in una memoria adesso noi andiamo a Roma a fare il gobetto dove il gobetto sarebbe il re vittorio naturalmente e invece non vanno a Milano e non vanno a Roma si fermano al piave la prima domanda che sempre si pone in questi casi appunto ma perché si sono fermati al piave com'è che l'esercito italiano è riuscito a fermarsi lì qui le risposte in realtà sono tante come sempre quando uno dice perché è successa una cosa e non c'è mai un solo motivo ce ne sono tanti la tentazione dello storico sarebbe di dire ma avete mai avuto esempi nella storia di una vittoria dopo la quale chi ha vinto conquista tutto il mondo no ci si ferma sempre sempre quando hai vinto prima o poi ti fermi fermarsi al piave dopo 150 chilometri di corsa è il minimo i tedeschi sono esausti hanno lasciato indietro tutta la loro artiglieria prima di portarla avanti ce ne vuole gli aeroporti i magazzini le linee ferroviari e tutto indietro e le truppe sono stravolte esauste non ce la fanno più arrivati al piave e al grappa in quel novembre del 17 ci provano ancora ci sperano anche e invece lì non passano quel che resta dell'esercito italiano tiene duro ed è la prima sensazione all'improvviso in italia che forse dopo tutto ecco non tutto è perduto l'esercito nonostante le botte che ha preso c'è ancora e combatte ancora anzi a dirla tutta combatte meglio di prima perché quel che resta dell'esercito adesso sta combattendo in italia ed è più facile spiegare ai soldati perché si combatte certo anche prima i soldati dicevano la patria risorgimento l'unità d'italia trento trieste sta di fatto che le truppe italiane che sono state attaccate e travolte a caporetto vivevano da due anni in un paese straniero abitato da stranieri sloveni i quali li detestavano e li consideravano giustamente degli invasori e i nostri soldati tanto contenti non erano adesso invece si combatte in italia e la propaganda nostra lo capisce subito è su questo che bisogna battere ai soldati bisogna spiegarlo e non è difficile guardate che di là non se ne sono mica andati tutti certo mezzo milione di profughi se ne sono andati dai territori oltre il piave ma tantissimi sono rimasti e la nostra propaganda ai soldati insiste a dire questo pensate a quelli che sono rimasti dall'altra parte pensate alle donne le sentite gridare le donne e loro un po le sentono davvero e un po se lo immaginano ma insomma che sul piave vale la pena di resistere è più facile farlo capire e i soldati combattono meglio di prima poi ci sono anche altri motivi non bisogna assolutamente sottovalutare il fatto che i nostri alleati sono venuti giù a darci una mano non che ci vogliano bene però il pericolo che l'italia esca dalla guerra che il nemico davvero arrivi a milano ecco è troppo forte perciò gli inglesi e i francesi ci hanno mandato truppe tante truppe entro fine novembre per capirci sono schierate sul fronte italiano 11 divisioni inglesi e francesi 11 divisioni e più dell'intera terza armata noi nel corso della ritirata abbiamo celebrato la terza armata comandata dal duca d'aosta che mentre la seconda armata si è fatta sbaragliare a caporetto ecco la terza armata è tornata indietro intatta invitta poi per decenni la retorica celebrerà in italia l'invitta terza armata le 11 divisioni mandate dai nostri alleati da sole sono di più dell'intera terza armata e non è solo questo bisogna anche dirlo gli inglesi e i francesi hanno eserciti di qualità superiore gli inglesi e i francesi combattono da tre anni in francia contro il migliore esercito del mondo i tedeschi noi quando ci siamo trovati di fronte i tedeschi ci siamo sbriciolati a caporetto gli inglesi e i francesi sono tre anni che tengono botta anche se con grande fatica bisogna dire sono altri eserciti hanno un'altra professionalità e altri mezzi altre economie alle spalle già prima di caporetto noi avevamo delle batterie inglesi di artiglieria mandate per amicizia simbolicamente sul nostro fronte e gli ufficiali inglesi di artiglieria ci sono i loro diari i loro libri dicono l'esercito italiano i soldati sono coraggiosissimi e pazzesco come vanno a farsi ammazzare i soldati gli uomini ufficiali ma quanto a tecnica quanto a competenza poco l'artiglieria ha tanti cannoni però fa poco e poi hanno poche risorse fuoco normale per una batteria italiana significa sparare sei colpi all'ora per una batteria inglese significa sparare 30 colpi allora e la differenza si vede c'è una diversa competenza tattica diversi armamenti se ne accorgono gli austriaci gli austriaci sono abituati a combattere con noi e con noi se la giocano alla pari ma nel dicembre sul monte tomba gli austriaci si trovano di fronte i francesi e i francesi li fanno a pezzi dunque l'aiuto degli inglesi e dei francesi è una cosa consistente significativa e dà una mano al nostro esercito che si sta in realtà rimettendo in piedi gli sbandati ammassati in enormi campi di concentramento pian piano vengono rimessi in riga riprendono il fucile vengono distribuiti ai reparti e i reparti vanno in linea e combattono dopodiché naturalmente nella nostra storiografia si è sempre molto insistito sul fatto che dopo il disastro di caporetto abbiamo imparato qualcosa è cambiato il comando è cambiato lo stile di comando cadorna è andato via adesso c'è diaz e se voi andate a vedere nella divulgazione nella manualistica si insiste molto sul diverso modo più umano di comandare che diaz avrebbe portato con sé maggior comprensione per i soldati per la loro mentalità più licenze più distrazioni meno fucilazioni allora è vero in parte diaz personalmente c'entra poco probabilmente chi è diaz di solito si dice sempre hanno nominato uno sconosciuto con grande sorpresa di tutti è abbastanza vero intendiamoci armando diaz non è uno sconosciuto per i suoi colleghi è un comandante di corpo d'armata e pur sempre sua eccellenza il tenente generale armando diaz ce ne saranno 30 o 40 come lui nell'esercito sono troppi perché il pubblico li possa conoscere lo mettono quando lo spiegano agli alleati il re vittorio per esempio agli alleati agli inglesi agli francesi spiega abbiamo questo diaz è bravissimo è il migliore abbiamo messo lui la verità vera probabilmente è che hanno messo lui perché non volevano rischiare qualcuno più importante perché non erano tanto sicuri di come andava a finire ci sarebbe stato il duca da osta il comandante della terza armata cugino del re ma dai il comando supremo al duca da osta in un momento in cui non sappiamo se non va a finire tutto molto male si è già bruciato cadorna ne bruciamo un altro il re vittorio che su questo tema tornava spesso senza immaginare che tanti anni dopo gli sarebbe toccato davvero il re vittorio dice beh se va male e mi tocca abdicare è meglio che ci sia mio cugino pronto quindi non lo mettiamo al comando dell'esercito mettiamo uno che anche se va tutto male e ci siamo bruciati diaz pazienza poi invece diaz riesce diaz e i suoi collaboratori fra i quali spiace dirlo badoglio il quale ha delle grosse responsabilità per caporetto ma dopo dopo come vice capo di stato maggiore uno che dà un'impronta forte di modernizzazione all'esercito italiano e anche per quello che poi la commissione di inchiesta su caporetto non lo tocca badoglio perché è diventato un uomo prezioso diaz e badoglio cambiano tante cose cosa cambia per esempio il modo di fare propaganda con i soldati che con i soldati si debba fare propaganda perché quello che pensano i soldati è importante cadorna avrebbe detto ma perché i soldati pensano ma figuriamoci milione di analfabeti invece i soldati pensano e sentono i nuovi comandanti lo capiscono meglio questo bisogna fare propaganda quindi non che non si facesse anche prima la propaganda prima di caporetto qualcuno aveva cominciato a capirlo questa idea bisogna organizzare dei discorsi delle conferenze per i soldati questa idea circolava già un po prima di caporetto ma se uno va a vedere come veniva realizzata in pratica ecco ve lo racconto come veniva realizzata in pratica una delle divisioni che vengono travolte a caporetto la cinquantesima divisione pochi giorni prima dell'offensiva nemica il generale comandante della cinquantesima divisione in conca di plezzo all'improvviso si sveglia è un vecchio signore all'improvviso si sveglia già 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 la propaganda la conferenza è stata fatta la conferenza si generale gli dicono sia tranquillo è stata fatta la conferenza la conferenza è consistita in questo una sala come questa piena di alpini il conferenziere è un capitano dei bersaglieri ultra settantenne veterano della terza guerra di indipendenza ferito a custozza grande patriota che allo scoppio della guerra si è di nuovo arruolato è capitano dei bersaglieri a 70 anni non sanno cosa fargli fare adesso c'è questa cosa nuova delle conferenze gli fanno fare le conferenze per cui a una sala piena di alpini il veterano di custozza appoggiato alla sua gruccia di mutilato tiene una conferenza sul tema è bello morire per la patria ho trovato anche il rapporto del comandante di quegli alpini che dice la sala rumoreggiava adesso invece la propaganda si comincia a prenderla sul serio nasce nell'esercito italiano il servizio p propaganda e la propaganda la fanno gli intellettuali migliori che ci sono sul campo vengono arruolati in tanti prezzolini salvemini piero calamandrei ardengo soffici scrittori poeti intellettuali di tutti i tipi gente in gamba che la prende sul serio questa cosa e che capisce che ai soldati appunto devi cercare di parlare in un certo modo devi dirgli delle cose semplici dall'altra parte ci sono le donne andiamo a liberarle prima o poi nascono i giornalini per i soldati alcuni sono famosi oggi collezionisti ne hanno appunto gli scaffali pieni la tradotta giornalini fatti bene non roba buttata via alla tradotta collaborano i giornalisti del corriere della sera il che vuole anche dire i disegnatori della domenica del corriere del corriere dei piccoli ci sarebbe da scrivere un libro su come il corriere dei piccoli ha formato generazioni di borghesi italiani e poi si spinge sul fatto che appunto i soldati bisogna trattarli meglio devono mangiare meglio prima di caporetto mangiavano da cani e nella ritirata hanno scoperto che era pieno di depositi strapieni di ogni ben di dio e hanno dovuto dare fuoco a tutto per non lasciarlo a nemico non deve più succedere la roba buona deve arrivare in trincea nelle gamelle dei soldati e poi mandarli in licenza prima li mandavano il meno possibile perché cadorna era convinto che il soldato che va in licenza arriva nel paese nel paese gli dicono questa guerra quando è che la finite basta facciamo la rivoluzione e il soldato torna al fronte non ha più voglia di combattere questo è il chiodo fisso di cadorna quindi in licenza non li mandiamo adesso invece li mandano molto di più in licenza e il riposo deve essere vero riposo non ginnastica fatica esercitazione il riposo ci sono degli iscritti dei generali di quest'epoca che dicono no no quando si mandano gli uomini a riposo deve essere riposo davvero ci deve essere un paese un fiume un'osteria delle donne che veramente la gente sappia che dopo aver combattuto un po vengono anche i momenti belli e tutte queste cose insieme un po cominciano a incidere il morale dei combattenti comincia un po a risalire e anche nel paese in generale è uno di quei rari momenti in cui come dire nel paese domina una certa sobrietà la tendenza è a dire c'eravamo montati la testa caporetto ci ha insegnato qualcosa per esempio gli stessi militari cominciano a criticare i giornalisti i famosi giornalisti come luigi barzini del corriere della sera che erano odiati dai soldati perché quando un soldato per caso sentiva leggere un articolo del corriere della sera che descriveva una battaglia e non ci ritrovava la sua vita vera i giornali parlavano di avanzate eroiche gloriose ufficiali paterni bandiere al vento e il soldato che sapeva benissimo che le cose erano diverse odiava i giornalisti e si deprimeva gli stessi ufficiali cominciano a dire basta basta bugie basta retorica cominciamo a raccontare le cose come stanno sarà un breve momento è durano sempre poco i momenti in cui si dice niente retorica ecco ma in quel momento c'è l'eterna italia pomposa e parolaia per un momento attraversa un bagno di sobrietà e di realismo e così nel novembre dicembre l'offensiva tedesca e austriaca si esaurisce sul piave e sul grappa e a quel punto i tedeschi dicono agli austriaci siete contenti siamo venuti abbiamo fatto quello che volevate molto di più li abbiamo ributtati indietro fino al piave adesso sono fatti vostri a noi le truppe tedesche ci servono in francia entro gennaio non c'è più un soldato tedesco in italia rimangono i soliti vecchi austriaci con i quali già da prima ce la giocavamo alla pari tutto sommato e c'è il piave fra noi e passa l'inverno passa la primavera gli austriaci non hanno abbastanza forze per attaccare e noi assolutamente non abbiamo le forze per attaccare noi quindi si rimane lì a guardarsi da una parte all'altra del piave si va avanti la primavera declina nell'estate e si comincia a avere nel mondo la sensazione che forse quest'anno questa guerra potrebbe arrivare alla conclusione i tedeschi in francia ne riparleremo scatenano una serie di offensive come dire o la va o la spacca ci bruciamo tutto se va bene arriviamo a parigi gli austriaci decidono che anche loro devono fare qualcosa dopo tutto a caporetto è andata così bene certo ma a caporetto c'erano i tedeschi adesso i tedeschi non ci sono più ma gli austriaci raccolgono lo stesso tutte le forze che gli restano per attaccare di nuovo attaccheranno per cercare di passare il piave sfondare e far crollare il fronte italiano l'offensiva è programmata per giugno è programmata con attenzione come al solito in tutti i particolari anche la propaganda le poste imperiali stampano francobolli in cui si vede un herculeo guerriero che abbatte a colpi di clava un gatto il quale gatto siamo noi gli italiani qui faccio una piccola digressione tanto siamo all'ultima sera ce lo possiamo permettere perché gli italiani sono accostati ai gatti ebbene esiste un soprannome insultante che gli austriaci davano agli italiani non soltanto l'esercito austriaco durante la guerra mondiale ma un soprannome che risale addirittura al settecento che indicava già nel settecento e nell'ottocento gli emigranti italiani in austria venditori ambulanti e così via questo soprannome era katzelmacher dove katzelmacher alla lettera vorrebbe dire fabbricante di gatti i linguisti si sono interrogati naturalmente da dove diavolo viene fuori questo soprannome e qualcuno dice ma sì sono quelli gli italiani sono quelli che fanno tanti figli come i gatti noi diremmo come i conigli no altri dicono no ci deve essere qualcosa in comune con il fatto che gli italiani i gatti li mangiano almeno gli emigrati italiani erano sospettati di la verità vera è che probabilmente il soprannome katzelmacher deriva da una parola che qui non ripeterò che gli austriaci sentivano continuamente in bocca agli italiani tant'è vero che io ho trovato proprio nelle lettere di un ufficiale austriaco durante la guerra alla vigilia dell'offensiva del piave anche un'altra versione questo dice adesso gliela faremo vedere ai cazzolini scritto sempre con la k e il tz naturalmente ecco allora i katzelmacher sono lì dall'altra parte del piave e noi austriaci stavolta gliela facciamo vedere come la chiamiamo questa operazione l'attacco di caporetto fatto insieme da tedeschi austriaci era stato battezzato l'operazione fratellanza d'armi questa sono gli austriaci da soli la chiamano operazione radetzchi con l'idea che insomma gli italiani radetzchi se lo ricordano e ci torniamo a quei bei tempi un po ci credono un po devono far finta di crederci l'imperatore carlo primo nel frattempo è morto nel 16 già il vecchio francesco giuseppe adesso c'è carlo d'asburgo l'ultimo l'ultimo imperatore d'austria uno dei pochissimi santi che si ha occasione di incontrare raccontando queste storie perché l'imperatore carlo primo che era molto cattolico è stato fatto santo da papa giovanni paolo secondo il cui padre era sergente nel suo esercito l'imperatore carlo primo dunque fa coniare in anticipo la medaglia ricordo per l'ingresso a venezia è un po presto ma insomma è meglio portarsi avanti sfonderemo sul piave e andremo a venezia tanto per cambiare gli italiani sanno benissimo che l'offensiva sta arrivando come sempre nella prima guerra mondiale è completamente impossibile tenere segreti preparativi quindi attraverso le intercettazioni telefoniche le spie i disertori i comandi italiani sanno benissimo che la mazzata sta per arrivare e mentre prima di caporetto erano stati molto tranquilli e sicuri di sé adesso vogliono far vedere che hanno imparato la lezione cosa è successo a caporetto una marea di sbandati centinaia di migliaia di sbandati abbiamo dovuto allestire in antico allestire all'ultimo momento enormi campi per ospitare tutti questi sbandati adesso alla vigilia dell'offensiva del piave tanto per essere sicuri i campi per accogliere i nostri sbandati nelle retrovie li preparano già prima così se crolla tutto almeno siamo già pronti a recuperare gli sbandati dopo caporetto cadorna aveva dovuto evacuare in fretta e furia da un giorno all'altro il comando supremo di vicenza fosse adesso il comando supremo è a padova però se quelli sfondano sul piave fatto sta che un gruppetto di ufficiali dello stato maggiore viene mandato a salso maggiore che sembra abbastanza indietro a cercare gli edifici per l'evacuazione del comando supremo se dobbiamo abbandonare padova almeno sappiamo già dove andare ma in realtà a parte questo questi sono gli aspetti umoristici ma la preparazione italiana stavolta c'è invece stavolta ecco è passato del tempo sono passati otto besi da caporetto gli eserciti in guerra imparano in fretta a caporetto gli italiani si sono trovati di fronte un nemico i tedeschi che combatteva con tattiche tecniche che gli italiani avevano appena cominciato ad annusare ma non le conoscevano ancora veramente ed è per quello che ci siamo sbriciolati ma otto mesi in guerra sono un tempo enorme il nostro esercito ha imparato i generali hanno studiato e si sono messe in pratica le cose che sapevano fare i tedeschi e noi invece no l'esempio più importante è l'uso dell'artiglieria adesso entro un po in un aspetto tecnico ma non ha senso parlare di queste battaglie senza sapere quali erano le condizioni tecniche in cui quegli uomini si trovavano a combattere e a morire cos'è l'artiglieria l'artiglieria significa questo nella prima guerra mondiale quando si attacca si è svantaggiati il nemico ha le mitragliatrici le trincee il filo spinato e tu vai a farti ammazzare fin dai primi mesi della prima guerra mondiale si capisce questo se tu vai all'attacco come ai vecchi tempi con la baionetta in canna e le bandiere al vento quelli ti massacrano non ci arrivi neanche alle loro trincee allora la reazione dei generali è stata di dire allora vuol dire che prima di attaccare li bombardiamo tanto abbiamo dei cannoni meravigliosi i cannoni negli ultimi anni hanno avuto dei progressi straordinari gli scienziati che si dedicano con zelo umanitario a questa cosa in tutti i paesi hanno inventato meravigliosi esplosivi nuovi non è solo nobel che ha inventato la dinamite tutti i laboratori sono lì che lavorano e producono nuovi esplosivi sempre più potenti abbiamo tutti hanno un'artiglieria di una potenza che non si era mai vista allora va bene se vogliamo attaccare vuol dire che prima li bombardiamo così con l'artiglieria li radiamo al suolo le loro trincee il loro filo spinato le loro mitragliatrici bombardiamo anche per un giorno intero all'inizio della prima guerra mondiale sembra una cosa da pazzi invece lo fanno per 24 ore si bombarda con tutto quello che costano i proiettili che hanno un costo infernale non importa per 24 ore si bombarda e poi si va all'attacco vedrete l'artiglieria avrà spianato tutto si va all'attacco e gli altri vengono fuori dalle trincee dalle rovine tirano fuori le mitragliatrici e ti spianano di nuovo come prima come è successo succede che la gente in trincea è molto ben difesa contro il bombardamento e quando il bombardamento si accentua la gente fa le trincee più profonde e comincia a fare i ripari di cemento ai bunker e a lasciare in trincea solo qualcuno le vedette gli altri ben al riparo dietro risultato bombardare per un giorno non serve a niente come funziona la mente umana funziona così che i generali dicono allora bombardiamo per due giorni e infatti si comincia a bombardare per due giorni prima di attaccare va tutto allo stesso modo allora bombardiamo per tre giorni nel 1916 siamo arrivati al punto che prima di attaccare sulla som primo luglio 1916 gli inglesi bombardano per una settimana allora ovviamente non è che non fa niente bombardare per una settimana uno non vorrebbe essere nei panni dei fanti tedeschi che se ne stanno nascosti nei loro bunker per una settimana con il mondo che gli esplode fuori fatto sta che neanche dopo una settimana non basta quando gli inglesi vanno all'attacco ci sono ancora abbastanza tedeschi pronti per falciarli a questo punto sono sicuro che ci saranno stati dei generali che avranno detto beh allora otto giorni ma ci sono anche dei generali tedeschi che dicono no pensiamoci un po meglio a questa cosa bisogna cambiare sistema totalmente tu cominci il bombardamento gli altri sanno benissimo che tu bombarderai per giorni e giorni e giorni e poi andrai all'attacco quindi si preparano si sistemano e stanno lì ad aspettare noi dicono i tedeschi potremmo provare a fare così bombardiamo solo per un'ora quando gli altri hanno appena cominciato a mettersi al riparo il bombardamento finisce e i nostri vanno all'attacco e li prendiamo di sorpresa questa cosa la provano dice proviamo la prima contro quelli un po più deboli la provano contro i russi nell'estate autunno del 17 funziona a meraviglia dicono proviamola contro degli altri anche loro deboli la provano a caporetto funziona a meraviglia a caporetto interi battaglioni italiani vengono catturati nelle loro caverne perché erano lì aspettandosi che il bombardamento durasse tutto il giorno e invece dopo un'ora il bombardamento finisce e a quel punto mentre gli ufficiali dentro si stanno guardando e si stanno dicendo che facciamo sarà una finta oppure usciamo e ci sono già i primi tedeschi all'ingresso della caverna che dicono italiani arrendetevi ecco e gli italiani che a caporetto avevano una poderosa artiglieria non l'hanno quasi usata perché perché non sapevano bene come usarla e non erano abituati a difendersi attaccavamo sempre noi quando attacchi tu gli ordini per l'artiglieria sono facili la vedete quella trincea laggiù anzi sulla cartina quel punto sulla cartina a otto chilometri voi bombardate quel punto bombardatelo 50 colpi al giorno non dovete fare nient'altro è diverso quando sono gli altri che ti attaccano dove devi sparare chi è che ti dice dove devi sparare la nostra artiglieria era completamente impreparata ma fra caporetto e il piave fra l'ottobre 17 e il giugno 18 anche i nostri ufficiali di artiglieria hanno studiato come fanno i tedeschi quando vengono attaccati ed è passato un nuovo concetto che è la contropreparazione che vuol dire questo quando gli altri che ti vogliono attaccare cominciano a sparare ecco nel caso di caporetto gli ordini per i nostri cannoni erano state bravi tranquilli zitti quando avete l'impressione che gli altri attaccano magari cominciate a sparare però poco perché i proiettili costano adesso il discorso è completamente diverso i proiettili costano pazienza per una volta spendiamo il piave bisogna tenerlo c'è poco da fare si gioca il paese si gioca la monarchia costi quel che costi che per una volta non vuol dire non importa quanti morti ci saranno ma vuol dire non importa quanti soldi spendiamo quindi l'artiglieria ha questi ordini la contropreparazione che è la forma più moderna appena imparata che significa appena quelli con mille cannoni cominciano a spararci noi rispondiamo con duemila cannoni e tu loro ci sparano un giorno intero e anche noi gli spariamo un giorno intero spariamo ai loro cannoni spariamo ai loro comandi ai loro magazzini alle strade le truppe che vengono all'attacco dovranno passare da qualche parte no e noi spariamo lì continuamente senza risparmiare è la prima volta che l'artiglieria italiana si comporta sul piave in modo moderno la contropreparazione vuol dire che le truppe austriache che si preparano all'attacco vengono schiacciate nelle loro trincee di partenza da una marea di fuoco le truppe i comandi centralini saltano i telefoni comincia già male insomma detto questo gli austriaci attaccano e sono talmente disperati che nonostante tutto passano il piave e costituiscono una testa di ponte al di qua del piave l'attacco scatta il 15 giugno e gli austriaci passano sotto il bombardamento italiano che produce perdite spaventose però gli austriaci vanno avanti passano il piave gettano passerelle portano al di là molte truppe intanto piove 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 il 15 giugno piove talmente tanto che il piave si gonfia e dalla parte italiana ovviamente stanno a vedere pregando che il fiume salga il fiume sale finalmente porta via le passerelle degli austriaci quelli che sono passati di qua rimangono bloccati nei giorni seguenti gli austriaci continuamente ributtano passerelle sotto il bombardamento e traghettano gente dalla nostra parte ma non riescono ad allargarsi e fin dal primo giorno le perdite sono spaventose già la prima sera un ufficiale austriaco annota nel suo diario l'offensiva è completamente fallita la nostra artiglieria è miserabile spara sulle nostre stesse truppe centinaia di uomini sono annegati continuano per cinque giorni e questa è la battaglia del piave e dall'altra ci sono i nostri i quali non lo sanno come andrà a finire e l'idea di una nuova caporetto che sta arrivando ce l'hanno in testa tutti però i nostri tengono con fatica con perdite enormi anche i nostri però non crolla il fronte e gli austriaci nella testa di ponte sono sotto il bombardamento e alla fine crollano loro dopo cinque giorni il 20 il comando austriaco decide l'offensiva è fallita basta troppe perdite troppi morti abbandoniamo la testa di ponte le truppe in realtà hanno già cominciato abbandonarla loro scappando al di là del piave in tutti i modi anche a nuoto che col piave in piena non è la migliore delle idee l'ultimo giorno un ufficiale austriaco racconta all'alba dopo che abbiamo respinto un violento attacco degli italiani perché gli italiani attaccano continuamente la testa di ponte per ributtarli al di là del piave arriva la notizia che a nord la linea è rotta e che le truppe fuggono e la catastrofe i resti della fanteria sgombrano le trincee e corrono verso il fiume un fuoco violentissimo li insegue e l'acqua gialla del piave ribolle sotto le esplosioni ininterrotte delle granate le acque del piave portano a valle un numero enorme di cadaveri battaglia del piave è la vera grande vittoria italiana di questa guerra è la volta che l'esercito italiano da solo da solo ci sono ancora inglesi e francesi ma il grosso siamo noi davanti al nemico tradizionale gli austriaci che è un nemico alla nostra altezza per una volta l'esercito italiano si è dimostrato superiore è superiore come tecnologie come tattiche e le truppe combattono naturalmente la battaglia del piave scatena anche un'ondata di propaganda e di retorica è inevitabile in tutti i paesi belligeranti la propaganda domina incontrastata e la retorica è spaventosa dappertutto battaglia del piave ha lasciato alcune tracce nella memoria collettiva italiana ricordate le scritte per esempio le foto che tutti abbiamo visto una volta nella vita il pezzo di muro di una casa di roccata con sopra scritto tutti eroi o il piave o tutti accoppati e per tanto tempo si cercava di far credere che un soldato spontaneamente aveva scritto quella cosa poi pian piano viene fuori che era il comando supremo che faceva fare queste scritte sui sui muri dentro un'osteria compare un'altra scritta che diventerà molto famosa meglio vivere un giorno da leone che cent'anni da pecora lì anni dopo verrà fuori un soldato che dirà sì sì l'ho scritta io quella cosa mi dettava l'ufficiale e io scrivevo però anche queste cose servono i giornali ne parlano le fotografie circolano tutti eroi e naturalmente un impiegato delle poste napoletano che ha già un certo nome come paroliere autore di canzoni scrive in quei giorni una canzone che anche stamattina gli alpini suonavano qui fuori e che credo tutti noi abbiamo sentito in vita nostra la canzone del piave il piave mormorò impiegato delle poste si chiamava giovanni gaeta ma firma questa canzone con uno pseudonimo come faceva spesso con le sue canzoni e a mario canzone a grandissimo successo il re vittorio vuole conoscere l'autore lo fanno andare al quirinale il re vittorio riceve giovanni gaeta che ha firmato e a mario e gli dice ma scusi però questo questo pseudonimo da dove viene fuori dice gaeta è perché io sono un grande ammiratore di alberto mario che era un collaboratore di mazzini era un grande mazziniano e il re dice capito perché lei si dice gaeta io sono repubblicano dopodiché se è vera la cosa che circola ma pare sia vero comunque è stata venduta così segno dei vecchi tempi il re dice i repubblicani sono sempre stati dei fedeli servitori del paese la nomino commendatore della corona d'italia dopodiché naturalmente io mi fermerei ancora un attimo perché questa canzone che tutti conosciamo è uno straordinario esempio di propaganda e di mistificazione propagandistica perché qual è la situazione noi siamo sul piave e stiamo combattendo per difendere il paese da un'invasione nemica sul piave l'esercito resiste per impedire che il nemico che già occupa un pezzo d'italia vada anche oltre non passa lo straniero ma come tutti ricordate la canzone evoca il 24 maggio il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio l'esercito marciava per raggiungere la frontiera per far contro il nemico una barriera dove sta la mistificazione intanto che il 24 maggio il piave non c'entrava niente era nelle retrovie lontanissimo dal fronte ma soprattutto nel fatto che il 24 maggio del 15 l'esercito non marciava verso la frontiera per far contro il nemico una barriera andavamo noi a invadere loro siamo noi che il 24 maggio abbiamo sfondato la frontiera e invaso la slovenia austriaca il trentino austriaco stavamo invadendo il paese nemico adesso dopo caporetto non se ne ricorda più nessuno dopo caporetto la parola d'ordine si fa questa guerra per difendere l'italia dall'invasione e anche il piave viene arruolato in questa battaglia bene entro il 20 giugno 1918 l'offensiva austriaca la battaglia del solstizio come viene chiamata è fallita abbiamo vinto teniamo la linea del piave intanto nel mondo cosa sta succedendo bene il mondo ormai vuol dire in francia perché la russia è fuori dalla guerra dopo la rivoluzione lenin ha mantenuto la parola che aveva dato pace subito e ha firmato la pace i tedeschi ormai combattono solo sul fronte occidentale dove hanno di fronte i soliti vecchi nemici i francesi e gli inglesi però anche un nemico nuovo che non è magari tanto esperto ma arriva con tanti uomini e tanta roba gli americani tutti hanno fatto gli stessi calcoli gli americani entro pochi mesi avranno un milione di uomini in francia per fine anno ne avranno tre milioni è completamente impossibile continuare perciò il comando supremo tedesco decide che bisogna finire la guerra subito ci giochiamo il tutto per tutto e ludendorp il capo di stato maggiore tedesco pianifica una serie di offensive sul fronte francese che dovranno arrivare una dopo l'altra con le stesse tattiche che erano servite a sbriciolare gli italiani a caporetto tattiche nuove di movimento della fanteria di uso delle armi leggere di uso dell'artiglieria queste cinque offensive partono una dopo l'altra a partire da marzo e le prime hanno un successo schiacciante eco e consolante i tedeschi con gli stessi sistemi con cui avevano fracassato noi a caporetto nel marzo del 18 fracassano gli inglesi annientano un'intera armata inglese vanno avanti di 60 chilometri poi però gli altri sono troppi e questa offensiva si ferma parte la seconda va avanti e si ferma parte la terza marzo aprile maggio giugno parte la quarta luglio parte la quinta ognuna di queste offensive sono centinaia di migliaia di morti feriti dispersi ogni volta i tedeschi vanno un po più avanti sono quasi a parigi ma quasi e intanto stanno finendo tutto però stanno finendo le riserve gli uomini i soldi le munizioni tutto e anche la voglia la quinta offensiva che parte il 15 luglio è un disastro viene fermata subito tanto che entro tre giorni il comando tedesco decide di sospenderla e a questo punto gli alleati partono all'attacco loro ormai c'è il milione di americani ci sono le armi nuove i carri armati che hanno appena inventato e che funzionano l'otto agosto per la prima volta da anni gli alleati passano all'attacco in francia e i tedeschi cedono i tedeschi cominciano a arretrare a partire da quel momento non si fermano più a metà settembre i tedeschi sono stati respinti fino alla frontiera sapete che la guerra lì si è combattuta tutta in francia perché in belgio e francia perché i tedeschi nel 14 erano entrati in belgio e in francia avevano conquistato un grosso pezzo di terreno e l'hanno sempre tenuto nel settembre del 18 i tedeschi sono stati ributtati alle loro frontiere e non sembra che riescano a fermarsi è chiaro a tutti che la guerra sta finendo e che i tedeschi e gli austriaci hanno perso il 13 settembre l'imperatore carlo d'asburgo comunica agli alleati che vuole aprire dei negoziati per chiedere la pace il 5 ottobre anche i tedeschi contatteranno il presidente americano wilson per dire che loro sarebbero disposti a discutere della pace e dunque attraverso tutti questi mesi noi il 20 giugno abbiamo assistito al fallimento dell'offensiva austriaca mentre in francia si combatteva la quarta delle grandi offensive tedesche a luglio si scatena la quinta offensiva tedesca in francia e fallisce subito e noi stiamo fermi sul piave ad agosto gli alleati attaccano in francia e respingono i tedeschi e noi stiamo fermi sul piave a settembre l'imperatore carlo comunica che lui vuole trattare la pace e noi stiamo fermi sul piave perché nessuno al comando supremo italiano pensa che abbiamo le forze per provare ad attaccare noi noi stiamo fermi a roma i politici cominciano a preoccuparsi perché vista da roma la situazione signori qui questa guerra sta per finire e se questa guerra finisce e gli altri in francia ributtano i tedeschi in germania invadono la germania e noi siamo ancora sul piave col nemico in casa e la guerra finisce e noi abbiamo il nemico in casa che figura ci facciamo con che faccia andiamo poi degli alleati a dire noi vogliamo bolzano l'istria la dalmazia quelli ci diranno ma è tanto se vi ridiamo il veneto perciò la politica a roma che ha perfettamente ragione su questo e vede chiarissimamente come andranno le cose comincia a essere preoccupata perché l'esercito non si muove a luglio da roma cominciano le prime telefonate a diaz e a badoglio suo vice per dire ragazzi forse dovreste muovervi se non siamo ancora pronti ad agosto il presidente del consiglio vittorio emanuele orlando va di persona a padova al comando supremo per dire a diaz e a badoglio dovete assolutamente attaccare ci serve una vittoria testualmente anche una piccola vittoria una cosa da niente ma una vittoria dobbiamo poterla mettere sul piatto diaz risponde che lui non accetta pressioni politiche e che piuttosto si dimette orlando presidente del consiglio nelle sue memorie dirà a quel punto ci ho pensato ma non sapevo chi mettere al suo posto quindi non se ne fa niente però insiste orlando dovete attaccare alla fine il capo di stato maggiore badoglio no scusate il vice del capo badoglio gli dice sentite noi sappiamo che non siamo pronti ad attaccare se il governo ci vuole obbligare ad attaccare ci deve dare l'ordine scritto è una roba che non si è mai vista il governo non va a dare ordini ai militari in questi termini orlando dice no l'ordine scritto non ve lo do la responsabilità è vostra badoglio risponde ma allora perché viene fin quassù a infelicitarci pare che badoglio da buon contadino piemontese con l'italiano abbia sempre avuto qualche momento di a questo punto diaz ha la grande idea dobbiamo fare qualcosa ma da soli non ci riusciamo andiamo a vedere se gli alleati sono disposti a trasferire tutto il loro esercito in italia e attaccare insieme a noi diaz va a parigi il 6 settembre e porta la proposta di trasferire in italia il grosso dell'esercito francese dicendo e voi con i tedeschi è difficile quelli sono dei duri se venite da noi gli austriaci crollano i francesi gli dicono abbi pazienza diaz ma a questo punto diaz ha un'altra idea brillante ci sono gli americani va dal generale comandante dell'esercito americano in francia generale pershing il quale generale pershing nelle sue memorie lo racconta dice è arrivato diaz e mi dice avremmo bisogno in italia di 20 divisioni americane un milione di uomini pershing dice ero abituato a sentirmi chiedere di tutto perché capite come sono arrivati gli americani e lo zio d'america sono straricchi hanno tutto tutti vanno da loro e quindi diaz e pershing dice non ho battuto ciglio perché ero abituato a sentirmi chiedere le cose più folli diaz vedendo che non battevo ciglio ha subito aumentato dice 25 divisioni pershing dice ahimè mi son stupito che un uomo in quella posizione potesse fare sul serio dei discorsi del genere e gli chiede diaz ma perché non attaccate voi e diaz dice stiamo studiando la cosa però se attacchiamo adesso rischiamo di restare senza riserve in primavera capite è il settembre del 18 i tedeschi sono quasi stati respinti fino alle loro frontiere e diaz tira fuori che attaccheremo la primavera prossima ecco da roma insistono no dovete attaccare prima a questo punto diaz studia un piano lo fa studiare i suoi uffici per un piccolo attacco al di là del piave il piano è pronto alla fine di settembre il 29 settembre si tiene una riunione dei generali per decidere voi credete che dovessero decidere la data dell'offensiva invece decidono la data di una nuova riunione futura in cui decideranno la data dell'offensiva la riunione la fissano fra due settimane per il 12 ottobre a quel punto sarà un mese che l'imperatore carlo ha già detto che lui vuole la pace e perfino i tedeschi l'hanno già detto a roma la politica tumultua si va a finire come nel 1866 una guerra ridicola in cui gli alleati i nostri alleati vincono e noi ci facciamo la solita figura è una vergogna non si può la camera tumultua bisogna che gli esercito attacchi orlando presidente del consiglio manda un telegramma al comando supremo tra l'inazione e la sconfitta preferisco la sconfitta muovetevi nel frattempo il mondo sta crollando il 29 settembre la bulgaria alleata degli imperi centrali ha firmato la pace è chiaro che è questione di poche settimane non solo il mondo sta crollando ecco mi fermo un momento su questo l'austria sta crollando l'impero austriaco si sta disgregando da solo perché mentre l'imperatore carlo ha contattato wilson presidente americano ed è disposto a fare la pace sulla base dei 14 punti di wilson che dicevano autodeterminazione per i popoli e l'imperatore carlo va avanti addirittura precede wilson il 16 ottobre l'imperatore carlo pubblica un proclama in cui dichiara che le regioni polacche dell'impero sono libere di andarsene se vogliono unirsi con altri territori polacchi e formare una nuova polonia lo possono fare e la parte ungherese può essere indipendente se vuole e la parte austriaca diventerà uno stato federale di quattro nazionalità tedesca cieca jugoslava e ucraina questo proclama ufficialmente l'imperatore carlo il 16 ottobre gli americani rispondono ormai è troppo tardi questi popoli faranno quello che vogliono loro e non quello che gli offri tu la pace si farà soltanto sulla base del fatto che ogni nazionalità dell'impero austriaco decide in piena libertà tutto quello che vuole fare in effetti il 14 ottobre si è già formato un governo nazionale cieco slovacco all'interno dell'impero austriaco che ha dichiarato guerra all'austria la croazia regione dell'impero austriaco sta negoziando con la serbia paese nemico per creare la jugoslavia il 28 ottobre è proclamata la cecoslovacchia indipendente il 29 ottobre è proclamata la jugoslavia il 31 ottobre l'ungheria si proclama indipendente questo è quello che succede nel corso del mese di ottobre da noi il 12 ottobre si è fatta la riunione per decidere quando cominciare l'attacco hanno deciso lo cominciamo il 18 ottobre senza fretta per l'appunto si scoprirà in seguito che i parlamentari austriaci designati per venire a chiederci l'armistizio erano pronti già dal 13 ottobre le loro credenziali per negoziare erano datate 13 ottobre però il comando austriaco ha detto beh però finché gli italiani non si muovono e finché il nostro esercito regge stiamo a vedere e aspettiamo diaz ha ordinato l'attacco per il 18 ottobre cosa succede il 18 ottobre sul piave che piove diluvia il piave in piena intransitabile rimandano di una settimana al 24 ottobre c'è di buono che l'anniversario di caporetto intanto l'esercito austriaco sta cominciando a disgregarsi da solo il 20 ottobre i primi reggimenti ungheresi in Val Sugana decidono di ammutinarsi e si mettono in marcia per tornarsene in Ungheria finalmente il 24 ottobre attacchiamo attacchiamo prima sul grappa per attirare lì l'attenzione degli austriaci e poi dopo due giorni sul piave per passarlo e sfondare comincia la battaglia di vittorio veneto che nei primi giorni è una vera battaglia questo va detto quei primi due giorni in cui i nostri attaccano sul grappa sono giorni pesanti perché l'esercito austriaco nonostante tutto l'esercito di un impero che sta finendo di esistere questo esercito contro gli italiani ha ancora voglia di combattere per cui nei primi giorni gli austriaci tengono la sera del 26 si gettano le prime passerelle sul piave la notte la piena spazza via tutto la notte del 27 si rifanno i ponti il 28 il piave li spazza via di nuovo però intanto i nostri stanno passando c'è una prima testa di ponte al di là del piave entro il 29 abbiamo grosse forze al di là del piave e a questo punto la battaglia di vittorio veneto in realtà è finita perché l'esercito austriaco decide che basta le truppe austriache sono fatte in gran parte di uomini nella cui patria nuovi governi stanno proclamando l'indipendenza la pace e così via nessuno ha più voglia di combattere al di là del fatto che crepano di fame i prigionieri austriaci catturati a vittorio veneto peseranno in media 45 chili l'uno dopodiché e dopodiché gli austriaci l'esercito comincia a ritirarsi e il 29 ottobre 10 del mattino il giorno in cui è proclamata a zagabria l'indipendenza della jugoslavia i parlamentari austriaci arrivano a chiedere l'armistizio mentre il comando austriaco ordina alle truppe a quei pochi che ancora obbidiscono la ritirata fino alla frontiera e quella cosa che dirà diaz nel proclama della vittoria no risalgono in disordine le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza bene apparentemente va tutto meravigliosamente l'impero austriaco il nostro vecchio nemico secolare sta scomparendo al suo posto nascono nuovi paesi dovremmo essere contentissimi in realtà attenzione la politica italiana fin dall'inizio sa che questa guerra si fa per imporre la nostra egemonia nell'adriatico nei balcani e allora non è detto che siamo così contenti certo se nasce la polonia non ci importa niente la cecoslovacchia va anche bene ma la jugoslavia no la jugoslavia ai nostri politici non piace per niente l'idea che invece di tanti piccoli stati nasca un grosso stato alla nostra frontiera e si sa già benissimo che gli jugoslavi ai negoziati per la pace diranno trieste ma trieste è slava gorizia ma gorizia è slava l'istria fiume la dalmazia neanche per idea quindi per i nostri in realtà la jugoslavia è un incubo vi racconto uno specifico episodio molti di voi l'avranno sentito forse nominare perché da bambini si studiava addirittura a scuola l'affondamento della viribus unitis la viribus unitis è una corazzata austriaca una delle poche che gli rimangono ancorata nel porto di pola la notte del tre la sera del 31 ottobre con un'azione di gruppi d'assalto con cui siamo in cui siamo così bravi la nostra marina è sempre stata brava in queste cose due fegatacci entrano nel porto di pola con una nuova arma speciale una mina semovente che viene agganciata di nascosto sotto la tolda della corazzata viribus unitis poi i due sommozzatori paolucci e rossetti che becheranno la medaglia d'oro tutti e due per questo ovviamente escono fuori gli austriaci li vedono li catturano e dopodiché poche ore dopo la viribus unitis salta e affonda con gran parte del suo equipaggio con il suo comandante 31 ottobre peccato che il 29 ottobre era stata proclamata l'indipendenza della jugoslavia e il 30 ottobre l'imperatore carlo aveva regalato la sua flotta alla jugoslavia quindi il 31 ottobre poche ore prima che paolucci e rossetti arrivassero nel porto di pola a minare la corazzata a bordo della corazzata viribus unitis il nome un vecchio slogan dell'impero austriaco no vuol dire a forze unite e piaceva anche gli jugoslavi evidentemente a bordo della viribus unitis l'ammiraglio horti comandante in capo della marina austriaca aveva solennemente consegnato la corazzata ai rappresentanti jugoslavi la corazzata aveva innalzato bandiera jugoslava e il comandante della corazzata capitano di vascello janko wukovic von pod kapelski aveva preso il comando della flotta jugoslava poche ore dopo noi affondiamo la principale corazzata della flotta jugoslava con il suo equipaggio croato a bordo e con a bordo il comandante della marina jugoslava che affoga durante l'affondamento della corazzata e io non so se paolucci e rossetti lo sapessero ma i loro comandi lo sapevano benissimo che cosa stava succedendo e nessuno ha detto vabbè visto che adesso la corazzata jugoslava lasciamo perdere anzi dunque il 29 ottobre gli austriaci chiedono l'armistizio sarebbero pronti a firmare anche subito tanto ormai è finita l'austria non esiste più e l'esercito si sta ritirando in disordine e gli italiani inseguono a questo punto siamo noi che tiriamo in lungo perché dovremmo firmare un armistizio quando il nemico sta scappando noi lo inseguiamo catturiamo prigionieri e liberiamo la patria occupata e andiamo avanti e saremmo così stupidi da fermarci no no comando austria e cioè il negoziatore austriaco a villa giusti a padova il generale weber von webenau appena cominciano i colloqui dichiara che loro in pratica hanno già deposto le armi non intendono più combattere e chiedono di cessare immediatamente i combattimenti e fermare l'avanzata italiana i negoziatori italiani rispondono non se ne parla neanche adesso discutiamo le clausole dell'armistizio e finché non abbiamo messo nero su bianco le clausole dell'armistizio il nostro esercito continua a attaccare e a inseguire si tira avanti il più che si può finalmente quando non ci sono più pretesti gli austriaci hanno ceduto tutto quello che chiedevamo alle 18 e 40 del 3 novembre viene firmato l'armistizio riusciamo ancora a infilarci un trucco è firmato alle 18 40 del 3 novembre ma entrerà in vigore alle 15 del giorno dopo migliaia di soldati austriaci che non hanno capito questa cosa quella sera quella notte quel mattino dopo vedono arrivare gli italiani li salutano allegramente e vengono immediatamente catturati e fatti prigionieri alla fine di tutto questo i nostri sono quasi a innsbruck siamo sbarcati a trieste per il rotto della cuffia siamo riusciti a prenderci quel che volevamo abbiamo in mano 300 mila prigionieri quasi tutti uomini che credevano che la guerra fosse finita e stavano tornando a casa invece resteranno ancora parecchi mesi in prigionia italiana adibiti ai lavori forzati devo dire ci sono rarissime testimonianze di questi prigionieri austriaci che sono rimasti in prigionia appunto fino al marzo aprile del 19 in italia la prigionia degli italiani in austria era stata spaventosa per la fame tremenda nei lager ma anche le testimonianze dei prigionieri austriaci trattenuti in italia fino al 19 le poche che ho letto parlano solo di quello fame fame disperata maltrattamenti la stessa identica cosa che i nostri hanno subito nei lager dopodiché abbiamo vinto abbiamo vinto la battaglia di vittorio veneto e abbiamo vinto la guerra e come dire non è un bel momento a guardarlo da adesso perché i nostri perdono la testa diaz diaz scrive alla moglie nei giorni dei negoziati noi negoziamo e imponiamo le nostre condizioni se per caso gli austriaci non accettassero le nostre condizioni e qui cito continueremo e sarà un disastro per l'esercito nemico dopo del quale muoveremo contro la germania ove resista e così saremo noi a dare la pace alla francia invece di riceverla questo scrive il comandante dell'esercito italiano in quei giorni in cui i tedeschi stanno crollando anche sul fronte occidentale e i francesi stanno per entrare in germania ma noi diciamo noi abbiamo vinto la guerra per tutti i giornali italiani ovviamente si scatenano mussolini più di tutti un titolo fra tutti del popolo d'italia emblematico dello spirito del tempo la causa santa della civiltà trionfa dove noi siamo la causa santa della civiltà leggere oggi è facile lo so che è facile la mentalità di allora era quella forse perfino ingeneroso prendere le distanze adesso però bisogna farlo uno legge certi articoli dei giornalisti italiani al seguito delle truppe di queste truppe che stanno via via respingendo gli austriaci e rioccupando i territori occupati scrive guelfo civinini sul corriere della sera dove è stato l'austriaco è rimasto il suo tanfo e il suo sudiciume e le strade per cui è fuggito sono seminate di elmetti di armi di cenci luridi di mollettiere fangose scioltesi nella fuga dai suoi stinchi pidocchiosi non sembra di battere le strade della ritirata di un esercito ma quelle per cui un'invasione di zingari è stata scacciata dai suoi feti di accampamenti e insomma per finire aveva ragione prezzolini il quale amava i paradossi e a un certo punto ha scritto che per l'italia caporetto è stata una vittoria e vittorio veneto una sconfitta caporetto ci ha fatto bene e vittorio veneto ci ha fatto male caporetto ci ha innalzati dice prezzolini e vittorio veneto ci ha abbassati perché ci si fa grandi resistendo a una sventura e spiando le proprie colpe e si diventa invece piccoli gonfiandosi con le menzogne e facendo risorgere i cattivi istinti per il fatto di vincere questo diceva prezzolini non lo dico io però del vero c'era il che non toglie niente al fatto che i nostri nonni hanno combattuto quella mia nonno anche era lì terza armata l'invitta terza armata del duca d'aosta i nostri nonni e bisnonni hanno combattuto quella guerra si sono fatti ammazzare in 600.000 hanno passato delle cose che oggi sono inimmaginabili alla fine hanno vinto però quel paese vittorioso ha scoperto alla fine di essere un paese con le ossa rotte indebitato fino al collo con una disoccupazione spaventosa un malessere sociale dilagante e tutti che dicevano noi dovremmo avere molto da questa vittoria non ci vogliono dare tutto quello che ci spetta noi dovremmo essere forti potenti comandare avere un impero non ce lo vogliono dare gliela faremo vedere noi la prossima volta ecco non è uscita bene da quella guerra l'italia se ci pensate i paesi che hanno vinto quella guerra l'inghilterra la francia sono usciti anche loro disastrati con un'economia molto mal ridotta disoccupazione spaventosa scioperi ma lì non ci sono stati sono movimenti sociali la democrazia ha tenuto la democrazia è andata al diavolo nel dopoguerra nei paesi sconfitti tra rivoluzioni e contro rivoluzioni in germania in austria in ungheria l'italia se uno guarda quello che c'è successo nel dopoguerra assomiglia più ai paesi sconfitti che non ai paesi che la guerra l'avevano vinta davvero e anche questa è una cosa su cui come dire vale la pena di riflettere grazie